Benvenuti qui a tutti e bentornati a coloro che hanno già seguito il pomeriggio di ieri quando abbiamo aperto il forum. Prima di cominciare i lavori vorrei lasciare la parola e ringraziare l'onorevole Roberto Badaracco che è venuto a dare l'inizio a questo forum e quindi lo ringrazio e vi lascio la parola. Grazie Silvia, buongiorno a tutti, piacere aprire questa seconda giornata, so che ieri avete avuto un pomeriggio molto interessante a Mendrisio, sapete anche che questo è un progetto molto innovativo, nuovo, che viene lanciato per la prima volta a questo forum sulle culture e salute e speriamo che non sarà solo la prima edizione ma il primo di tanti di questi forum e approfondimenti molto interessanti. Voi sapete che questo progetto è nato nel 2019 ad opera della divisione cultura e di IPSA, la fondazione IPSA, che insieme hanno lanciato e promosso questo progetto molto innovativo e unico, oserei dire, a livello svizzero perché unisce questi due temi fondamentali che sono la cultura e la salute. Tutti noi tramite gli eventi che frequentiamo, stando comunque, si spera bene, apprezziamo la bellezza dell'arte e della cultura in tutto ciò che facciamo. Però capire che effettivamente la cultura porta un valore aggiunto sia alla salute nella fase preventiva, cioè quando si sta bene, in fase di prevenzione, ma anche soprattutto quando si è colpiti, purtroppo e disgraziatamente, da una malattia, questa è una scoperta che forse il cui impatto è noto solo con dati scientifici, quindi qualitativi e quantitativi solo negli ultimi anni e questo è il vero forse valore aggiunto e qualità della cultura, che porta un benessere e cura le persone che hanno difficoltà di salute anche nella fase proprio della malattia. Io credo che questa sia a livello politico e per noi politici una prima constatazione di enorme importanza, perché si era abituati purtroppo a trattare la cultura come l'ultimo quasi degli argomenti di un budget finanziario o di un cantone o di una città, pensando che sia importante, ma prima vengono tante cose come rifare le strade, piccole cose che forse hanno un impatto molto minore. Io credo che invece questa constatazione, argomentazione, fa sì che la cultura è una portata politica molto più forte e anche i soldi che si spendono a favore della cultura hanno in ultima analisi anche un impatto a livello sanitario, sociale e quasi economico e quindi questo è veramente un dato fondamentale e importante. Io ringrazio in particolare il direttore della divisione cultura con tutti i suoi collaboratori, il dottor Di Corato e la direttrice Silvia Misiti di IPSA Foundation, per credere molto in questo progetto, per essersi lanciati con molto entusiasmo e voglia veramente di portare un valore aggiunto a questa città, ma anche alla realtà forse ticinese e nazionale e questa è un'altra novità che potrebbe fare di Lugano un centro importante per questo progetto e un punto di riferimento anche per altri. Io so che oggi sarà una giornata molto importante perché verranno presentati anche i progetti vincitori di questi progetti proprio che hanno a che fare con la cultura e la salute anche sul territorio cantonale ticinese, questa è un pochettino una novità e credo che sia importante far vedere non solo le relazioni che ci sono e avete avuto in questi due giorni a livello nazionale e internazionale con gli interventi anche del delegato dell'OMS o tanti altri interventi da città europee, ma anche il fatto di poter dimostrare che anche da noi questo tema ha un impatto reale e concreto con dei progetti che hanno un'incidenza importante. Quindi io vi auguro da parte mia una bellissima giornata e ringrazio tutti quelli che collaborano, anche vedo l'AC, l'AC Edu presente in questa bella struttura a cui noi teniamo tanto a livello culturale e quindi veramente una giornata appassionante con nuove consapevolezze, ringrazio anche il coordinatore, il direttore del corso, il professore qua presente anche per l'entusiasmo che ci mette, insomma sono delle prime esperienze molto importanti di cui noi faremo sicuramente tesoro e credo che ci permetteranno di andare in avanti su questa strada perché una volta che c'è la consapevolezza ci si rende conto che bisogna sviluppare oltre tutti questi bei progetti. Grazie mille e buona giornata a tutti. Grazie Onorevole Badaracco. Eccoci. Allora grazie, l'Onorevole Badaracco ha già introdotto il progetto, quello vorrei cominciare subito con i lavori perché abbiamo tanti relatori da sentire. volevo darvi velocemente una panoramica di quello che faremo oggi insieme. Abbiamo pensato di organizzare il programma in tre parti, proprio partendo, quindi la prima parte sarà dedicata alla, l'abbiamo intitolata, le evidenze scientifiche, proprio perché parleremo di questo report dell'OMS pubblicato nel novembre del 2019 che è stato fondamentale, che ha dato una spinta fondamentale a questa area, a questa disciplina, a questa area di ricerca che è quella che è denominata appunto cultura e salute. Di evidenze scientifiche parleremo subito, a breve, con un ricercatore, officer dell'OMS che si collegherà con noi da Copenaghen e che ha proprio dal suo, diciamo dalla sua sezione, dal suo ufficio, è uscito questo report. Un report che copre tutti gli studi che sono stati pubblicati tra il 2000 e il 2019 su questa tematica. Come potete immaginare la pubblicazione di studi scientifici che vanno a dimostrare con un approccio rigoroso scientifico l'applicazione di, diciamo, l'utilizzo di arti e cultura nel, in affiancamento o a livello di prevenzione di terapie, ha dato un impulso fondamentale perché è quello che poi va a dimostrare realmente, distingue in maniera netta quelle che sono solo delle attività sicuramente piacevoli, come sempre denominate per il tempo libero, rispetto a diventare uno strumento reale di prevenzione e di terapia. Allora io passerei, chiedo alla regia come funziona per il collegamento perché ci colleghiamo con Nils Fitch, appunto come dicevo, ricercatore, eccolo, buongiorno Nils, Good morning, lui ci racconterà a che punto è l'OMS rispetto al report che ormai ha due anni dalla sua pubblicazione, quali sono le prospettive, come pensano di aggiornarlo, se pensano di aggiornarlo, quindi io gli lascio volentieri la parola e al termine del suo intervento chi vuole può rivolgergli delle domande anche in italiano perché è previsto un servizio di traduzione. Nils. Well, thank you very much, thank you very much for the introduction, for the invitation. I'm very sorry that I can't be with you, I really would have liked to have come and traveled to see you, so I apologize for having to do this, I'm from Copenhagen, from my home, but it's a wonderful opportunity and I really look forward to telling you a little bit about the work that WHO is doing in this space of arts and health. But before I do, I also want to congratulate you all and the canton of Lugano for taking this step and entering into this realm of arts and arts and health, as indeed are many other member states and many other states within member states as well. We see a rising interest in the Nordic countries, in the UK of course, where a lot of this has been pioneered, but also in the places like Italy and Germany and France, there's really a rising wave of activity in this area and I'm very glad to see that you're joining this activity. So I'm going to try to share my screen now to give you a presentation that I have in front of me. I think that's working, but if not, then do let me know. So maybe I just start with a quick quote and a quick kind of reminder that even long before humans knew about penicillin or genetics, they created music and art. And it's worth reminding ourselves that our need to express our hopes and fears and to create meaning from our surroundings and to share this through artistic creations with others is as profound as our need to quench our thirst or to still our hunger. So should we really be surprised that art can improve health? Should we be surprised that art can give us well-being? The famous French painter and sculptor Georges Braque once summarized the relationship between the arts and health in a way that I think only an artist can. Art, he said, is a wound turned into light. So what then is art and health? I assume you've already been talking about these issues, you've been thinking about these questions. So I don't want to spend too much time on this topic, but I do want to kind of differentiate two different things that our report talks about. On the one hand, we have the passive participation in art. And again, research is showing more and more that even just reading a book or going to the theatre, watching a film, engaging in artistic expressions, even if just done passively, can have an important effect on the physiology of the body. It can reduce cortisol levels, it can reduce stress, it can increase feelings of well-being, of connectedness and so forth. So even just the passive participation in art can have an important health and well-being benefit. But what our report also shows is that there are a number of targeted arts and health interventions, like singing to increase well-being or dancing to slow the progress of Parkinson's disease, which are considered non-invasive, low risk treatment options and are increasingly being used by health systems to supplement more traditional biomedical treatments. So our report, I believe, has also gathered some of the evidence to support that at least some of these interventions in the arts and health realm are proving to be quite effective. So maybe I start off with a little bit about the report itself. For those of you who are very technologically minded, there's a little tag at the bottom right corner that you can scan with your phone, the QR code, and it should lead you directly to the report in case you're interested in in downloading it. So the report was a substantial piece of academic work. It brings together, as has already been said, it brings together hundreds of publications that illustrate the positive effects that arts interventions and the arts themselves can have on a range of health challenges. And that's across the life course and throughout the continuum of care. So the report shows us how the arts can tackle wicked or complex health challenges like diabetes, obesity, mental health, and how they can offer solutions that common medical practice has so far been unable to address effectively. Now, the report looks at the performing arts, the visual arts, including design and craft. It looks at literature, culture, online, digital, and electronic arts. There are areas that the report doesn't look at, which conceivably could fall under the rubric of arts, like, for instance, architecture. And there are other similar spaces like, for instance, gardening or other activities like that, which have similar effects, but which we didn't include in this report. So there's still quite a bit to do in terms of bringing all of this under one roof. Now the report supports the implementation of arts interventions for which there is strong, a strong evidence base. And I'll say a little bit more about one in particular, which we are piloting in the coming year. And it also encourages, and I think this is why these kinds of conferences are incredibly important. It encourages that countries share with each other the knowledge and practice from effective interventions and case studies, so that we can learn from each other and we can build more of a community of practice within arts and health that can help us move this needle forward. And of course, the report also encourages arts and cultural organizations to make health and well-being an integral part of their strategic work. And I think that's exactly what is happening at the moment in Lugano. So the report breaks down into essentially four categories, and you can further divide that into kind of two silos. One of these is about the management and the treatment of ill health, and one of them is about the prevention of ill health and the promotion of health. And there's evidence, there's very good evidence to support that in all of these rubrics, arts and health interventions, when they are well designed and when they are well executed, can have an important preventive or treatment or management or promotion component to them. So, for instance, in the realm of management and treatment, arts and health can help people who are experiencing mental illness at all stages of the life force, for instance, by supporting recovery from perinatal mental illness and after trauma or abuse. And I'll say a little bit more about perinatal mental illness and perinatal depression at the end of my talk. The arts can also support care for people with acute conditions, for instance, by improving the experience and outcomes in care for hospital patients and individuals and intensive care. And it can also assist in the treatment of non-communicable diseases, for instance, cancer, lung disease, diabetes, cardiovascular disease, etc. And finally, and very importantly, arts and health can also support end of life care, including palliative care and bereavement. So arts and health interventions can actually also be for the carers of patients. They also have been shown to have important effects for those people who care for patients. Now, in terms of prevention and promotion, the arts can affect the social determinants of health, for instance, by developing social cohesion and reducing social inequalities and inequities. They can, and this is very important, we think, support child development, for instance, by enhancing mother infant bonding and supporting speech and language acquisition. They can encourage health promotion behavior, health promoting behaviors, for instance, through promoting healthy living and encouraging engagement with health care. And they can help to prevent ill health, including enhancing wellbeing and reducing the impact of trauma or the risk of cognitive decline. So one of the important things that our report does, it obviously brings together a lot of the evidence. It accumulates reviews from over 3000 sources, but it's addressed at policymakers. So it really is important for us to draw some conclusions and to make some suggestions that policymakers might want to take into consideration. So these considerations are broken down into three component parts. On the one hand, we talk about policymakers becoming more aware of the evidence and using that evidence to actually implement interventions. So here we really want to kind of point out that there are some interventions which are ready to go, as it were. There is good clinical evidence supporting the fact that they are effective. And in some cases, they are incredibly easy to implement. And I'm going to give a quick example here. So for instance, just playing music in a preoperative environment has been shown through clinical trials to improve recovery and aid within the outcomes of post-surgery. So this is something that's incredibly easy to do. Playing music to patients who are just about to undergo an operation requires virtually no investment and has no risk and it carries very little risk with it. And yet it is something that people are not particularly aware of. And again, it's something that could potentially be implemented tomorrow. The other thing we want to encourage policymakers to engage in is to share with countries the knowledge and practice from effective interventions and case studies that have used the arts to promote health or to improve health behaviors or to address health inequalities and inequities. So wherever arts and health are being implemented, wherever research is being conducted, wherever insights are being gathered, we encourage policymakers to share these through forums, through conferences like this one. But also with us at WHO, we're very keen to become a nadir, a kind of focal point for this type of work and to provide those case studies for other countries that are thinking about arts and health interventions. And finally, nothing is going to happen without further funding and further support in this area. A lot of arts and health work is currently done by people who are passionate for very little money, but for this type of activity to really become integrated into healthcare systems to become substantiated by clinical trials and other forms of evidence funding needs to be made available to have more large scale data available. That shows that shows that interventions work, not just at the local, not just at the community level, but can even be implemented nationally. Now, the other important aspect of or area recommendations that we want to highlight is in relation to added value, recognizing the added value of engagement with the arts. And in here we want to kind of, once again, excuse me, we want to encourage, we think that this needs to go both ways. Obviously, the health sector needs to be aware of the fact that the arts can contribute to their mandate to their raison d'etre. But we also think it's important that arts and cultural institutions think health so that they begin to recognize that health may well be an integral part of their strategy. And an example in this might be that a museum might recognize from the evidence that we show in our report that guided tours for people with dementia or Alzheimer's can help alleviate those symptoms and can help have positive health and well being impact on art on Alzheimer patients and dementia patients. And that once that realization is there, that perhaps these these institutions, these arts and culture institutions can try to integrate that into their into their strategies as well. Of course, we also need to continue to promote public awareness of arts and health interventions, and I think this is a really low hanging fruit, because at the end of the day, many of these interventions are fundamentally enjoyable to many people. And who would not rather send their child who has coordination problems with their arm due to hemiplegia, for instance, who would not rather send their child to a magic camp where they train fine motor skills through the use of by learning magic tricks, rather than sending their child to a other form of physical therapy that the child might not enjoy. As much. So I think just being aware, making 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 the public aware of these types of interventions is incredibly important. Finally, I want to say a little bit about the cross sectoral nature of of arts and health again, this is an element that we really draw out very strongly. And there's increasing interest in politics of the 21st century, to try and knit together the different sectors to try and get health. For instance, to work with the social sector or to work with the education sector and so forth. But there isn't really a huge amount of work between, for instance, health and the cultural sector. So this cross sectoral potential is a really important one and a very unique one. The other important thing is that once these two sectors start to work together, it becomes easier to develop lines of of refer from the health and social care to community arts programs, for instance, through the use of social prescribing schemes. And this is something that in the United Kingdom, the the governments are the government of the United Kingdom is already beginning to explore. So. To end, I just want to give a quick overview of something that we're we're of the next step, as it were, that we've begun to take in this area. And the report has shown that there are half a dozen to a dozen arts and health interventions which really have very strong evidence base behind them, even at the level of clinical data. And so we decided at WHO that it was time to take one of these interventions and see how well it translates into other cultural contexts. So the intervention that we we chose is one that is called Music and Motherhood. It's a WHO pilot and it's based on the protocols that were developed in the United Kingdom by the Center for Performance Science at Imperial College and the Royal College of Music, which is a is an intervention that focuses on mothers who experience postpartum depression. And brings them together in a singing group where they meet for up to 10 times and as a consequence, both develop a way of communicating about their experiences in a nonthreatening environment to other mothers who have similar who are experiencing similar challenges. But where they also learn to bond with their with their child during that time. Now, there's really good clinical data for this type of this type of intervention, at least in the United Kingdom. It shows that my medium to severe level sufferers on the Edinburgh postnatal depression scale, the EPDS, can have very, very strong benefits from from this kind of intervention. So we decided that we were going to take this intervention and try to run implementation study in Denmark and Romania. So there are two cities, one in Denmark, one in Romania, where we are going to be trialing this intervention, where we're going to try and see how well it translates into other languages, and where we're going to evaluate the the effectiveness of that implementation. And this is going to kick off in the new year in 2022. And our aim is to create a protocol from this type of intervention that we can kind of step by step guide for any other countries or cities that might be interested in taking this intervention and also rolling it out or trying it for themselves. And the next step, then, would be to try and do this for other similar interventions where the evidence base is also very strong. So I think I've talked for long enough. I do want to, at this point, show you we put together a film about this intervention, which I think is far more eloquent, says the things that I've said far more eloquently than than anything I could ever say. So I hope we've got this queued up. And if possible, it'd be great if we could, if we could show this film now. Thank you very much. When Cara was born, it was just an overwhelming sense of isolation. It was just relentless, the lack of sleep and kind of feeling very out of control. And it can get very dark and very depressing. You need to demonstrate to them how they should be. So I wanted to really relearn to love myself and relearn to be a better person so that she can grow up seeing that I love myself, which I didn't before. I'm Charlotte. I've suffered from some postnatal depression recently, and I have a seven and a half month old baby. So from the age of 30, like I've had some very severe dips into depression and anxiety, culminating in one very bad attempt at suicide, which I'm not proud of, but it happened. And I wanted to move forward from that and never, never go back there. So I've worked very hard just recently with psychotherapists and with counseling to really combat the depression, which, which can just make you feel so worthless and useless, which as a parent, you can't feel like that. You really need to be strong for your baby. So the depression really like now I want to fight it, fight it to keep it away. My name is Cleo, and I run Melodies for Mums, which is a singing group specifically for women who suffer from postnatal depression. The main thing is that they're not being so isolated and they're realizing that they're not on their own. They're not the only ones that are going through these different challenges. We didn't really need to talk about, you know, the depressing kind of facts that we were all struggling. We just had this wonderful, positive experience at the other end. And we sound really good. We sound amazing, which was one of the revelations that lots of beginner singers. And it's just so uplifting, but they're real community songs about happiness and joy. And I feel that when I sing them, I feel really special and really good. And I'm just really glad that I went there and have tried to find different things that made me feel really good. And it's brought me and Cara closer. We're able to laugh and sing and we have much more happy moments. And I can't say specifically that it's Melodies for Mums, but it's the feeling of that. That was one of the first places where I started to really enjoy spending time with my baby and doing things for us together. And that's been something that I will take with me from the class and forever. And that's been a very difficult time. Niel Fitch, grazie a tutti per questo meraviglioso film. Ho scoperto solo per l'italiano perché le persone qui hanno la traduzione. Qualcuno vuole fare qualche domanda al nostro collegamento? L'abbiamo a disposizione quindi vi invito a chiedergli quello che diciamo volete. Comincio io con una domanda così rompo il ghiaccio. Volevo sapere per quanto riguarda, intanto molto importante tutto il lavoro che l'OMS sta facendo, per quanto riguarda il report, pensate poi di fare degli aggiornamenti nei prossimi anni, come avevate pensato di lavorare da questo punto di vista di mappatura delle evidenze scientifiche? Grazie, grazie. Grazie, grazie. As è sempre il caso, queste cose sono sempre tiede a fondamenti. quindi noi stiamo attivando e stai attivando questo tipo di lavoro. Ma come si può dire, un rapporto come questo ha fatto molto tempo e costato molto di money. Quindi, al momento, non abbiamo concreto plans di rupostare il rapporto, per se. although we're very happy, I mean this is essentially a public product so we're hopeful that other academics will continue to provide more evidence and I know this is happening all the time in other countries, in Ireland for instance they just published a synthesis report more specifically looking at nutrition and arts and health interventions but this kind of work is constantly ongoing. We ourselves don't currently have any plans to update the report per se. One thing we are looking at though is to not so much update but supplement this report with a kind of portfolio of what one might call best buys so taking the report and extracting the kind of 6 to 12 interventions that seem to have the highest level of clinical and other evidence behind them and to try and synthesize the information about those particular interventions to say where they've been run, how they've been run, what the evidence says, where one might go if one were interested in emulating an intervention like that, what the creative and artistic process is behind it. So a much more focused report than the scoping review that we published but one that will hopefully help that category of stakeholders who are convinced by the evidence and who are now thinking about what next, how do I actually go about implementing an intervention and what intervention should I potentially focus on. Grazie, in effetti sono pubblicazioni scientifiche che quindi a tutti gli effetti c'è bisogno di tempo per scrivere un lavoro e poi fare, realizzare il progetto e poi scrivere il lavoro quindi probabilmente ci vorranno un po' di anni per di nuovo raccogliere, fare una mappatura dei prossimi anni. Ci sono altre curiosità richieste, c'è una domanda? Thank you very much for your report. Parlo in italiano? Sì sì, può anche parlare in italiano, gli viene tradotto. Ok, grazie. Volevo ringraziare, veramente sono felicissima di sapere che l'OMS sta facendo questo tipo di lavoro. Io sono curiosa di sapere la metodologia che viene usata per la valutazione dei progetti, nel senso, io vengo del mondo della ricerca clinica e volevo sapere se usa lo standard randomized clinical trial control. Dobbiamo stare sempre ad avere il paragono, un gruppo, non so se tutti sanno il randomized clinical trial, un gruppo fa un certo tipo di trattamento, un altro gruppo non fa nulla. e questo approccio o nel campo di arte salute dobbiamo creare una metodologia specifica perché l'evidenza non avviene, diciamo, non deve essere raccolta esattamente nel paradigma che abbiamo per la ricerca clinica usuale. Thank you for that question, that's a great question. And so I should say, first of all, that the report we published was what one might call a scoping review. So it's not a systematic review. For those of you who are familiar with that terminology, a systematic review is more focused, uses tighter controls about the evidence that it permits. And if we had used that kind of approach, we ultimately wouldn't have been able to put a huge amount of information into the report. Because as you say, as you rightly say, a lot of arts and health interventions use different forms of analysis and different forms of evidence gathering. So our report, you know, you looked at the results of over 3000 studies, but they included design evidence designs like uncontrolled pilot studies or case studies, small scales cross sectional surveys, nationally representative longitudinal cohort studies, but also randomized control trials, RCTs. So the purpose of the report itself was to do a kind of mapping, you know, to really kind of go very broad scale and say, this is the work and the activity that is happening. Some of this is the evidence base is relatively small scale. But in some cases, like for instance, the intervention that we're piloting now in Denmark and Romania, there is strong RCT, randomized control trial evidence that is telling us that this intervention can have an important effect on mothers who are suffering from postpartum depression. Now, I do have to say, to some extent, the challenge with evidence is that we're playing with the rules of biomedical science interventions, science interventions that are much easier to control, where it's about, you know, taking a pill or not taking a pill, and where the impacts are nowhere near as complex as the impacts of an arts and health intervention. One of the important aspects and one of the important aspects and one of the important aspects and one of the important benefits of arts and health interventions is that they are complex interventions, their impacts are not just in relation to the symptoms, but they are also in relation to a much wider set of parameters. So a well-designed arts and health intervention can improve social cohesion, it can improve well-being, it can improve all sorts of dynamics, as well as the actual symptoms it is targeting. And to create clinical trials that specifically identify the extent to which these complex interventions are effective is very difficult, is very time consuming, and is very costly. And it's also not the domain in which a lot of the arts practitioners work, because a lot of arts and health interventions, at the end of the day, are generated from the ground up by artists. So, for instance, so for instance, a famous, a famous arts and health intervention called Dancing for Parkinson's was initiated in the 1980s by a group of dancers in New York. And this is something that's been replicated in a lot of arts and health interventions, they come up, they are designed and created from the ground up by artists, artists who are not necessarily so familiar with the kind of evidence gathering processes that scientists in the medical sciences might know about. So I think we have, we have to be a little bit more open-minded about the kind of evidence that we accept in this, in this terrain. I hope that answers, answers your question, but it's a really important one. Thank you very much for your presentation. I was wondering how the work done recently by Daisy Fancor at UCL and Helen Chatterjee will influence the kind of the update of the report in the future. Thank you. Another great question by somebody who's clearly very in the subject and knows a lot about what we're doing, that's fantastic. So we recently announced that the center which Daisy Fancor heads up at UCL is going to become a collaborating center on arts and health. It's the first of its kind in WHO collaborating centers. There are many collaborating centers that WHO works with, I think over 800 or so, but most of them, as you can imagine, are in the realm of kind of the biosciences. And this is the first one of its kind that looks at arts and health specifically. So Daisy and Helen, who's also at University College London, are going to be working closely with us on a variety of working packages. One of which, I mean, for instance, they do a lot of work supporting the work that we're doing in Romania and Denmark with regard to the implementation study. But another very important thing that they're going to be doing and perhaps one that's going to be particularly relevant and of interest to any policymakers who might be in the room is that they're trying to put together a database of activity at the policy level, arts and health policy level. So what are different countries? What are different regions within countries? What are different states within countries, possibly even cities within within countries? What are they doing in this space and what what is happening at the policy level? Because one thing that has definitely started changing over the last five years is that it's moving this 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 area is moving out of the pure kind of academic research domain into the policy domain with countries like Sweden and the UK, as well as Denmark and Finland beginning to develop policies about, for instance, culture on prescription or social prescribing more more generally. And I think that's that's a that's a space where we want to collect a lot more more information. So member states, particularly in the European region, can become inspired by what their neighbors are doing. Thank you so much. Thank you very much. Grazie. A questo punto, come promesso, questa prima parte dedicata del forum di oggi, dedicata appunto alle evidenze scientifiche, chiamo sul pulpito il professor Enzo Grossi, medico ricercatore, scientific advisor del cluster tecnologico nazionale Alisei di Scienze per la Vita, nonché direttore scientifico di neuropsichiatria infantile dell'Istituto, scusate, Villa Santa Maria di Tavernerio a Como, docente di cultura e salute, docente di cultura e salute, consulente per la fondazione IPSA del progetto cultura e salute e attualmente coordinatore del corso di cultura e salute in svolgimento presso l'Università della Svizzera italiana. Prego, professore. Grazie Silvia. Grazie Silvia. Buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere poter parlare di questo argomento dopo il collega dell'OMS. Ringrazio tra l'altro per l'invito proprio Silvia Misiti e Luigi Decorato. e se posso avere la prima slide? Ah, è già qua. È stata riformattata evidentemente. Allora. Ecco, l'uscita di questo rapporto, per chi si occupa, come me, del tema arte, cultura e salute da molti anni, è stata veramente un fulmine a ciel sereno, devo dire. Perché noi avevamo osservato con interesse che una serie di progressi scientifici degli ultimi vent'anni, quindi lo sviluppo della scienza biopsico-sociale, la scienza del well-being, il neuroimaging diagnostico, la scienza della bellezza, la scienza dello stress, ci dava la possibilità di spiegare diversi meccanismi di azione con i quali le arti possono funzionare nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie. Ma in effetti, scusate c'è qualcosa che non va, no non parte l'animazione, spurtroppo non potendo manipolare il computer qualcosa sfugge. Noi, in effetti, in quella slide mancavano le evidenze e le evidenze insieme a questi progressi della scienza possono dare finalmente una plausibilità scientifica a tutto questo. Quindi grazie al rapporto MS abbiamo adesso un corpus di evidenze che dialoga con questi progressi scientifici. In effetti i progressi scientifici le basi neurobiologiche ce le hanno date. Abbiamo scoperto l'esistenza dei centri della bellezza attraverso gli studi che sono originati da Semir Zechi, la neuroestetica. Tra l'altro ne parleremo proprio dopo domani al Campus Est dell'Usi, ci sarà una serata dedicata alla neuroestetica. Abbiamo visto che le esperienze estetiche danno un notevole sollievo dallo stress. Qui cito un mio esperimento che fu fatto a Santuario di Viecoforte, l'esperimento di Viecoforte, dove abbiamo visto un crollo dei livelli di cortisolo già dopo un'ora e mezza di questa esperienza molto emotiva, molto gratificante di visita a questa cupola. Tra l'altro questo ho avuto la soddisfazione di vederlo citato nel report OMS come studio italiano, non ce ne sono molti altri. E ovviamente parliamo di neuroni a specchio quando pensiamo al valore aggiunto che dà la condivisione con altri di queste esperienze. E ne abbiamo parlato proprio in questo corso, lunedì scorso, insieme anche all'artista Pistoletto. Ecco quindi che si ricompone questo quadro di plausibilità scientifica grazie a questo rapporto OMS. Ma ci chiediamo, le evidenze scientifiche sono tutte uguali? No, le evidenze scientifiche sono delineabili con una piramide di livelli crescenti di credibilità e di forza delle evidenze, perché andiamo dai primi studi che addirittura possono essere fatti anche su modelli animali, poi dei case study fatti magari su un singolo individuo, poi dei studi fatti su piccole serie di casi, poi degli studi osservazionali, e poi arriviamo ai cosiddetti studi randomizzati che, come diceva la collega, sono il livello in cui noi attribuiamo il maggiore grado di credibilità. E quindi se andiamo a esaminare questo rapporto OMS sulla base di questa griglia, noi vediamo soprattutto come interessanti gli studi randomizzati. Per chi non conoscesse la materia, molti di voi ne hanno sentito parlare, ma solo per qualcuno di voi che non ha le idee molto chiare, riassumo brevemente cosa sono gli studi controllati e randomizzati. Sono studi dove i partecipanti sono assegnati in maniera del tutto casuale, quindi random, significa casuale, all'uno o all'altro degli interventi in studio, se ce ne fosse solo uno, a un gruppo dove non succede niente, all'altro gruppo dove c'è questo tipo di intervento. E questo consente di aspettarsi che i due gruppi alla fine sono simili, come composizione di soggetti, perché le abbiamo attribuite a caso, e che le eventuali differenze che vedremo al termine di questa esperienza sono dovuti al fatto di essere in quel particolare gruppo dove c'è quel particolare intervento. Quindi alla fine possiamo confrontare gli esiti e valutare se la differenza è consistente, tanto da raggiungere a quella che si chiama una differenza statisticamente significativa, cioè non è legata a un effetto casuale, ma con un certo grado di confidenza, diciamo 95 volte su 100, questa cosa si realizza. Quindi hanno un disegno solitamente prospettico, cioè vedo nel tempo che cosa succede, servono per valutare l'efficacia di un trattamento, e vi ho già detto a proposito dell'esito, e il ricercatore di fatto è uno sperimentatore, quindi interviene nell'assegnare il trattamento. E questa è la difficoltà di tradurre tutto questo in campo artistico-culturale dove c'è, non c'è una storica preparazione a questo. Sono utilizzati, sono stati utilizzati, sono nati per essere applicati a validazione dei farmaci che vengono registrati solo se ci sono almeno due grandi studi randomizzati che sostengono l'efficacia, ed è stato il caso di tutti i vaccini anti-Covid, sono stati passati da questa griglia, ma sono applicati anche in altri contesti, medici, dalle terapie chirurgiche, agli interventi preventivi, anche agli interventi di educazione sanitaria, e anche nell'organizzazione di particolari servizi sanitari. Ecco, perché si utilizza questo metodo? Perché se noi non lo utilizzassimo, ma ci basassimo solo sul fatto che facendo fare questa esperienza dei soggetti, vediamo che migliora qualcosa al termine di questa esperienza, avremo una dividenza molto debole, perché cadremo nella fallaccia del ragionamento post hoc ergo propter hoc, quindi essendo successo dopo è dovuto a quello che ho fatto prima. Ma in realtà potrebbero giocare aspettative ottimistiche da parte dei partecipanti, la condizione in studio potrebbe evolvere naturalmente per altre ragioni verso un miglioramento, e tenderemo a introdurre in questo studio dei soggetti in cui riteniamo che questa proposta sia allettante. Quindi questo introduce dei bias potenziali. E in effetti in campo medico, quando i trial randomizzati non erano molto di moda, ci fu un periodo in cui c'erano delle false credenze di utilizzo di alcune terapie, in particolari condizioni, che poi addirittura si rivelarono pericolose quando furono vagliate con studi randomizzati, oppure viceversa, delle terapie che erano ritenute pericolose in realtà si sono rivelate essere efficaci. Qui non so se riuscite a leggere, ma ci sono dei vari esempi. È un po' come se appunto voi state osservando in un deserto dei dormenari che stanno camminando, vedete i dormenari? Li vedete? Ecco, quelli che vedete non sono i dormenari, sono le loro ombre, perché i dormenari sono queste macchie bianche. È una foto scattata dall'alto che dà la falsa impressione di vedere dei dormenari, ma i dormenari non si vedono in pratica. Quindi quello che tentano di fare gli studi randomizzati è quello di evitare di avere queste false impressioni. Ecco, uscire un anno dopo esattamente l'uscita del report di cui ha parlato il collega OMS è quest'altro report, che tra l'altro come uno degli autori è lo stesso, la stessa del report, Daisy Fancourt. Ecco, in questo report cosa hanno fatto i colleghi? hanno utilizzato una metodologia che è in grado di misurare la forza delle evidenze, quindi dare una graduazione. Sì, c'è un'evidenza che sia benefica, ma quanto è forte questa evidenza? E hanno focalizzato tra i vari ambiti di cui si articola questo report, è veramente enorme perché vedete quante condizioni vengono prese in considerazione, hanno per il momento focalizzato l'attenzione sui determinanti sociali della salute, sullo sviluppo del bambino e sulla prevenzione delle malattie. Quindi tutto quello che vi farò vedere ha a che fare con questo. Le altre parti saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, probabilmente uscirà un altro repo di questo tipo. Ecco, per darvi l'idea, in queste aree ci sono, io ho contatto proprio uno per uno, 223 studi randomizzati. Quindi è un corpus perché la maggior parte degli studi, di quei 3.000 studi, sono studi osservazionali, quindi solo una minoranza sono studi randomizzati, però sono in numero sufficientemente alto per permettere l'applicazione di questa griglia. Vi faccio vedere, questa è la griglia di questa form australiano in cui è possibile fare una gradazione che vada eccellente a debole sulla base di una serie di criteri, quindi la presenza di molti studi randomizzati, oppure solo uno o due, oppure non studi randomizzati o studi solo qualitativi. se poi questo studio, i risultati di questo studio sono direttamente applicabili nell'area asale di tutti i giorni, e quindi eccellente quando sono direttamente applicabili, mentre via via è sempre difficile rendere applicabili. l'impatto potenziale, se l'impatto è veramente sostanziale, e se parliamo di effect size, che è un termine diciamo statistico, l'entità dell'effetto, che è rilevante. E su questo apro una piccola parentesi, perché mi sembra molto interessante riflettere su questo, cioè noi siamo abituati a valutare l'efficacia sulla base di una differenza statisticamente significativa. Dobbiamo raggiungere il famoso P inferiore a 0,05. Ma la differenza statistica è in relazione alla numerosità del campione. Cioè io posso dimostrare che un antipertensivo è efficace, statisticamente efficace, se faccio uno studio su 40.000 persone e dimostro che la riduzione di 3 mm di mercurio della pressione è statisticamente significativa. Ma se lo vado a dire al medico, gli dici ma a me non interessa assolutamente nulla di ridurre la pressione di 3 mm. Io ho bisogno di impattare su questa persona che ha l'ipertensione riducendola a meno di 30 mm di mercurio, cioè portando da 170 a 140, da 170 a 167 non cambia nulla. e quindi la rilevanza è quella che si chiama rilevanza clinica. Quindi al di là della significatività statistica vedere la rilevanza. Vi faccio un esempio che è molto comprensibile in questa fase perché immaginiamo che in un ospedale in terapia intensiva ci sono 100 persone ricoverate e vado a contare quanti sono i vaccinati rispetto ai non vaccinati e mi posso trovare in situazioni diverse. Ora se metto questo in un grafico io ottengo questo che già a livello di una ripartizione 40 a 60 raggiungo la significatività statistica ma se la ripartizione è 10 a 90 vedete che l'ordine di grandezza sale esponenzialmente quindi è 8 a 1 la differenza e quindi è molto più convincente di questo livello che è un livello precedente anche se statisticamente significativo e questo si dovrebbe usare anche per far capire a certe persone cosa significa l'efficacia perché l'efficacia dei vaccini è proprio questa e la ripartizione è più o meno di 10 e 10 90 e vi voglio far vedere un altro esempio di FXI di uno studio molto interessante che ha condotto il mio amico Christian Gold norvegese che è un ricercatore che si occupa soprattutto di musicoterapia ed è l'altra cosa interessante che ha fatto questo esperimento randomizzato in un carcere cinese sono rimasto abbastanza colpito pensavo che la Cina fosse meno avvezza a occuparsi della salute mentale dei carcerati rispetto a un paese come l'Italia in realtà hanno fatto prima loro uno studio di questo tipo che avremmo potuto fare anche noi ma in questo studio hanno confrontato due gruppi di 100 carcerati che vengono valutati all'ingresso con la randomizzazione per essere assolutamente equiparabili secondo tutta una serie di variabili e soprattutto sui punteggi dell'ansia e della depressione e qui potete vedere questi test vedete che sono allineati quindi li abbiamo mescolati molto bene nei due gruppi ora il gruppo che ha fatto delle sessioni di ingaggio musicale cioè suonavano insieme una volta alla settimana per 10 settimane o addirittura per 30 settimane quindi 30 sessioni vedete che raggiungono delle differenze statisticamente significative sì sono gli asterischi su questa colonna ma ad esempio sulla depressione vedete che si dimezzano i valori di depressione quindi l'effet size che è questo è molto importante ecco quindi diciamo il concetto di valutare anche l'entità dell'effetto e non solo la presenza di effetto quindi noi possiamo definire su questa griglia un'evidenza eccellente che è quella che permette di fare delle azioni politiche cioè con un'evidenza di tipo A un politico dovrebbe essere quasi obbligato a fare qualcosa in quel in quel particolare ambito con un'evidenza B beh forse la può fare ma magari c'è bisogno di qualche altro studio ecco le prove che superano la griglia del grado A che quindi possono essere attendibili per guidare la politica potete leggerle con me l'uso della musica per sostenere lo sviluppo sociale del bambino l'uso della lettura di libri per sostenere lo sviluppo sociale del bambino l'uso della musica o della lettura per lo sviluppo del linguaggio neonati dei bambini quindi molta attenzione a questa parte della vita l'uso delle arti per sostenere gli aspetti della coesione sociale l'uso delle arti per migliorare il benessere cioè i fattori psicologici positivi negli adulti e l'uso delle arti per ridurre il declino fisico in età avanzata altri ambiti che danno origine a prove di grado B come forza l'uso delle arti diverse dalla lettura per sostenere lo sviluppo sociale del bambino per sostenere il benessere dei bambini e dei giovani per sostenere la funzione cognitiva in età avanzata ecco questo credo che non sia mai stato portato all'attenzione fino adesso perché questo rapporto è uscito l'anno scorso ma credo che non sia stato ancora molto considerato qui vi faccio una carrellata di revisioni sistematiche che hanno permesso di arrivare a queste gradazioni quindi questi sono studi 52 trial su 3.000 quasi 4.000 partecipanti nei interventi con musica per migliorare per migliorare gli esiti psicologici e fisici dei pazienti tumorali questa è una Cochrane Review che è un'associazione di metodologia clinica della ricerca soprattutto rivolta ai farmaci molto rigorosa questa è un'altra Cochrane Review sui soggetti affetti da emenza sempre con la musicoterapia 22 trial su oltre 1.000 partecipanti questi sono studi sull'intervento di sport e danza per i giovani per promuovere il benessere soggettivo 7 trial randomizzati quasi 1.000 partecipanti questi sul far suonare uno strumento per migliorare le performance cognitive negli adulti 10 trial randomizzati questa è la danza a cui ha fatto cenno il collega OMS soprattutto nel Parkinson 22 trial su 1.000 partecipanti l'uso di questo tipo di comunicazione che si chiama genitorese quel modo con cui istintivamente i due genitori si rivolgono ai bambini in fase neonatale che ha un significato molto molto forte per lo sviluppo cognitivo 8 trial randomizzati su 144 studi e ce ne sono molte altre ecco questo è l'uso dell'appoggio ritmico uditivo nei soggetti che hanno problemi di equilibrio anche soggetti accaduti a fratture del femore per ostoperosi e vorrei terminare con anche con un accenno che al politico interessa molto sul possibile ritorno economico perché visto che questi approcci tendenzialmente hanno dei costi molto bassi il fatto che facciano risparmiare degli eventi successivi legati allo stato di salute è abbastanza convincente ecco ci sono solo per il momento tre di questi studi tutti fatti in Inghilterra e vedete l'arco temporale che è stato preso in considerazione va da sei mesi a cinque anni e qui il ritorno dell'investimento per ogni sterlina spesa è di 3,38 da questo studio del 2014 2,9 e 1,69 ovviamente più si allarga l'orizzonte più il risparmio è notevole e il risparmio si realizza come? attraverso la riduzione delle visite dei medici di famiglia attraverso la riduzione del consumo di farmaci psicotropici e attraverso la riduzione di visite specialistiche e anche di ricovero ospedalieri quindi qualcuno anni fa non so chi fosse ma forse lo so è un ministro dell'italiano che diceva che con la cultura non si mangia guardo Luigi che lui sicuramente si ricorda chi era ministro Tremonti tanto per non fare nomi ma in realtà con la cultura si mangia anche quindi abbiamo un'agenda molto per me molto semplice per il futuro se pensiamo alla popolazione generale possiamo promuovere la partecipazione culturale con una strategia per il welfare e per la prevenzione di malattie croniche soprattutto malattie croniche degenerative se pensiamo alla popolazione fragile che è fatta di malati ma è fatta anche di soggetti che si trovano in condizioni sociali difficili abbiamo fatto prima l'esempio dei carcerati e qui dobbiamo sempre più promuovere l'inclusione culturale portare l'arte là dove loro risiedono e quindi c'è una grande esperienza di arte negli ospedali se ne parlerà molto oggi e attraverso anche l'umanizzazione dei luoghi di cura a renderli più gradevoli più stimolanti da un certo punto di vista chiedo alla regia di schiacciare quel bottone che vedono a sinistra perché credevo di avere il mio pc così mi porto alle considerazioni finali allora la prima considerazione che abbiamo un'arma sicuramente molto potente per questo nuovo welfare questo è fuori di dubbio e abbiamo capito che è proprio l'isposizione della bellezza che gioca attraverso meccanismi neurostetici e psicosociali nel promuovere questo benessere psicologico attraverso il benessere psicologico anche la salute fisica perché mente corpo sono collegati e abbiamo visto che questo corpus di prove coscientifiche è realmente impressionante e le prove sono state ottenute attraverso dei criteri dei metodi che sono quelli usati solitamente in campo farmaceutico ma sono stati applicati anche nell'arte e nella cultura e quindi tutto questo a mio modo di vedere si può ma si deve tradurre in azioni politiche quindi spero che questo possa realmente realizzarsi e con questo vi ringrazio per l'attenzione grazie professore allora se c'è qualche domanda per il professor Grossi così poi sulla base di quanto abbiamo ascoltato da Nils Fitch dal professor Renzo Grossi entriamo nella sezione delle buone pratiche prego qualche domanda eccolo grazie intanto mi sembra un importante passo questo dalla dimensione puramente estetica quella invece della salute una domanda pratica cioè come vede anche se siamo ancora a breve distanza dall'apparizione di questi risultati l'implementazione nel modello diciamo del finanziamento pubblico della salute che è forse l'aspetto delle coperture finanziarie delle cure che adesso dovrebbero riconoscere un valore specifico a oggetti pratiche che fino ad ora sono associate a una pratica estetica non pagante sì è un problema diciamo così quasi filosofico perché se uno si muove solo nel campo sanitario è difficile che trovi le risorse economiche perché lì si ragiona un po' con partimenti stagni ma è chiaro che questo argomento richiede una visione molto più allargata e in realtà sarebbe Draghi Italia che deve pensare di allocare risorse perché se lo chiede al Ministro della Salute dice ma io non ho risorse da poter spostare da un settore all'altro sono già con l'acqua alla gola ma richiede una visione molto più come dire meno miope di guardare soprattutto nel lungo termine e di vedere le ricadute in termini di risparmio poi di spese mediche future facendo degli interventi quindi questo sarà un po' più difficile da ottenere perché sarebbe come dire se io misuro l'efficacia del vaccino anti-influenzale solo sul fatto della prevenzione di questa influenza che mi causa il consumo di farmaci o direttura spedalizzazione non tengo conto del venire meno dell'assenteismo che invece impatta nel campo del del ministero del lavoro e quindi devo avere appunto una visione più allargata grazie un piccolo commento credo che poi il discorso così come abbiamo cercato di impostarlo sia anche essenzialmente quello che porta a una sensibilizzazione del mondo della cultura per il suo impatto sociale quindi esiste un po' un doppio lato della medaglia esiste evidentemente il lato più meramente legato alla salute e poi esiste quel lato invece che è legato alla cultura e che dovrebbe far dire al mondo della cultura che bisogna essere anche un po' più rilevanti per la vita delle persone non solo quando si fa ricerca e quando si fa cultura in maniera evidentemente tradizionale ma anche cercando di dare alla cultura un ruolo diverso che sposta anche il livello della sostenibilità degli effetti della cultura in un altro campo che non è meno rilevante quindi credo che sia veramente un percorso chiamiamolo culturale a 360 gradi e il tentativo che stiamo provando a fare va in questa direzione in quella direzione in cui ognuno dovrebbe fare la sua parte per cercare anche di dare al cittadino non solo dei buoni momenti del tempo libero ma fare della cultura un ingrediente quotidiano e della vita di tutti i giorni grazie allora quanto anticipato dal professore Enzo Grossi ha già citato il Regno Unito come un paese dove il livello di consapevolezza sul tema è sicuramente molto più avanti ci sono già delle buone pratiche e per questo motivo entriamo nella seconda parte del nostro forum di oggi dove presenteremo appunto delle best practice che cosa sono le best practice sono appunto degli esempi di testimonianze esempi luoghi associazioni che già mettono in pratica quanto abbiamo ascoltato fino adesso quindi ringraziamo Rosy Dove che ci stava che stava aspettando in collegamento Rosy Dove è uno dei direttori del board di Alliance for Culture Health and Wellness un'associazione appunto del Regno Unito che raccoglie più di 6.000 adepti adesso ce lo racconterà lei e appunto ci parlerà di quello che attualmente stanno facendo organizzando nel Regno Unito quindi grazie alla regia se ci parte il collegamento di Rosy Dove che era già collegata quindi vediamo se la vediamo anche sullo schermo scusate eccola qui good morning Rosy Dove can you hear us good morning yes I can okay so thanks for waiting a little delay but the discussion is very interesting here we are talking from yesterday about culture health and well welcome to Wales where I'm beaming in from a very windy and stormy UK to tell you a little bit about my experience and some of my perspectives on this intersection of culture health and well-being I am a musician I'm a bit of an amateur painter I'm a bad ukulele player so the arts is very very important to me and over the past 10 years my roles have really centred around the delivery of arts and health activities so I set up a large network of choirs for people affected by cancer across Wales and I've worked in a number of organisations since then doing a range of projects at this intersection in the UK at the moment I am actually a step back from delivery so I have two roles which support the development of people in this sector the first is as a director of the fantastic organisation the Culture Health and Well-Being Alliance which is a network organisation that supports around five and a half six thousand people and organisations in England who identify as working at this intersection of culture health and well-being but day-to-day that's a voluntary role that I have with the Culture Health and Well-Being Alliance day-to-day my role is at an organisation called Nesta which is an innovation foundation based across the UK and my role is specifically based here in Wales working with the Arts Council of Wales to think about how work in this sector can be more sustainable more scalable and better quality so we've got a lot of great practice here which I'll tell you a bit about today but I also from these different perspectives and today is very much from my perspective as somebody who's been delivering projects for a long time but is now working in more of that coaching and consultant capacity there are three questions that I would really really like to explore today first of all what's working well what are some good examples of great practice and what is happening to really develop this sector and you've already heard some of that today but I'll explore that a little bit but I also want to think about a little bit what's actually still challenging for people who are working in this sector you have heard some of that already this morning but from our perspectives what's important in terms of supporting the people who do this work so that's very much the tone of both of my roles so I'll be speaking a little bit about that and this question which has already been raised this philosophical question which may or may not have an answer and that's something for you to ponder as we go through this morning of who's responsible for all this who's responsible for this development and who are the different stakeholders and players involved and what can they do to further development in this sector so starting with what's working well as I mentioned the culture health and well-being alliance supports five and a half thousand people projects and organisations and there's a huge range and diversity of this work in the UK and it ranges from art installations in hospitals museums doing outreach projects with the community for health and well-being right through to very targeted specific interventions aimed at very specific health outcomes which I think you've heard a bit about today and something that's working really well that I've seen development in over the last 10 years is this more networked approach in the UK so as an example of best practice the culture health and well-being alliance have done some amazing work to join the dots between culture creativity health and well-being and knowing more about this sector so doing things like surveys reports case studies really really helps to build this as a movement by influencing funders policy makers commissioners by empowering people as well this can be a very dispersed sector arts health and well-being comes from a place of passion it comes from artists wanting to change the lives of people that they see as vulnerable and needing help but often that means that the ideas come from individual people and individual passionate people who then often work in quite isolated and vulnerable environments themselves so having these networks has been actually a real game changer and a big step forward in terms of supporting people and actually supporting the sector to be known and to be visible in the UK and what's great about the alliance is that they combine that with a very local approach as well so volunteer regional champions around the country who are supporting peer networks building relationships between culture and health and part of their work is also around resources so information training and peer support and there's tons of really great stuff on their website that I really urge you to have a look at. Now here in Wales and this is with my day job at Nesta these are the 13 projects that I'm currently supporting in a more in-depth level and as well as showing I think the breadth of this work this shows the depth and the range of this work in the UK so we've got things like creative writing for people who are facing addiction and that happens in the Welsh language so it's very very important for people to have access to support in their first language so that's quite an innovative project in Wales. Here in South Wales we've got a creative social prescribing project which means that where there are people in the Covid field hospitals in South Wales who are being rehabilitated they have a creative interaction with somebody in the hospital and then when they go out to the community they are referred on to an arts organisation in the community to really continue that creative journey that supports their rehabilitation. So this is a very very broad range just within the one programme that I work with I encourage you to find out more about all these projects they're really really fantastic. Now you've already heard today a little bit about the evidence base and here in the UK we are we have been pioneering this approach you've heard a little bit about the work of Daisy Fancourt this morning I've worked quite closely with Daisy to look in detail at individual projects so where does an individual intervention have an impact and where can for example arts help to reduce the number of GP visits a person might make how can singing help to address stress and cortisol and how can we measure that through biomarkers and there's also a very large study happening at the moment through King's College London that's I believe a two million pound study so evidence of course is very very important in all this and I think we really have made such huge steps forward another thing that is good about the development in the evidence sector is this kind of synthesis of research so that really really helps practitioners on the ground if they can say actually there's a big body of evidence around this it's not just about those individual interventions that there's a story and a narrative being built up around this work that I think is really really exciting but thinking very much from a practitioner's point of view so from the point of view of people who actually deliver this work I do want to spend a bit of time thinking about what's still challenging we're doing loads of really great stuff but there's still areas where we need to develop so that practitioners can be better supported the first of those is practitioner support so this is a relatively new way of thinking about this sector but I think over the years it's become very very clear and very obvious that if you work in this sector it's stressful and it's tough and it's difficult and you need especially as an artist as a freelance artist remember I talked about how isolated they could be something that the culture health and well-being alliance is doing really really well is thinking about how to how to support practitioners with resources with peer networking groups and also commissioning and working with researchers to really look at this issue and really talk to people and find out what's needed there are a few things that the culture health and well-being alliance still needs to focus on so we need to focus on partnerships it's this is obviously an ecosystem an ecology of organizations types of organizations you've got the arts world you've got health partners you've got public sector policymakers all of these groups need to find a way to share a common language to work together to really establish and articulate what the value of working together is and it's difficult it's difficult to do so that's something that the alliance is really thinking about equity very very important why is it that some people still have very good access to creative projects for their health and well-being but they still have access to lots of cultural diverse culturally diverse projects in their communities and others do not and it often is unfortunately the most marginalized in our societies who still have the least access to these types of projects so we really at the alliance champion work that addresses those inequalities encourages inclusion broadens access and really develops our understanding of how culture impacts our health and the social determinants of it now sustainability this is something I think about a lot I think about what that word actually means and it can be a very precarious sector to work in so how do we get practitioners to feel a level of security about the work that they do and join the dots between creativity health and climate justice as well so we're always coming although we're a very kind of national organization with a sense of national purpose we're still always coming from this grassroots perspective and making sure we build those perspectives into our work so the change we really want to see so this really spans across both my roles at Nesta and the culture health and well-being alliance can really broadly I think be put into five sort of topic areas so obviously at the center of this all is that partnership working between arts partners and health and care partners but there are a range of things around the outside that I believe would make arts for health and well-being more sustainable the first is pathways and what I mean by that is how do you actually get people out of the health system and into an arts activity if there's an arts project that a healthcare professional could or should refer into how do they know about that and what's the process behind it how do they actually navigate that so that patients and people in the health system can have those creative experiences experiences recommended to them by a healthcare professional that's still extremely challenging actually administratively and logistically I've talked already about inclusive projects for health and well-being so addressing the patchiness of provision is very very important we've heard already about evidence and I'll say a little bit more about that in a second but we still actually need to work on evidence and think about still that's still a challenge even though there's so much great stuff that's happened this is still a challenge on a very individual project level that it's almost like every time a project gets set up they're having to start that process from scratch of thinking about their evidence thinking about the impact of their particular project and that's the sort of evidence that we find the health systems want to see but it's very expensive to generate in a robust way so it's still quite challenging to get through that in the bottom left a better shared understanding of the value of arts in health and what I mean by that is that we navigate these different languages across the health sectors and the arts sectors and come up with something that both sectors can understand that's still very challenging there's still you know a resistance from the arts sector often to be drawn into the language of health but there's also a resistance from the health sector I perceive to move into thinking about the role of the arts in a different way from perhaps clinical markers and it very much depends on the type of project here and of course more sustainable funding models which which is something that I think has already been raised this morning by one of one of your question askers and something that we're doing here in Wales is actually really starting to dig into each of those topics so I'm not going to share too much about that but I'll share a couple of examples and in thinking about pathways particularly for people to access the arts what we've started to do is develop a set of what we think are kind of ingredients for success and these are the sort of things that we think practitioners and really anybody who wants to do this sort of work or think about this sort of work should really or could be thinking about in order to help to make their projects a bit more embedded sustainable and to really make a success of those partnerships partnerships are quite quite core and underpin all of this in the pathways bit and they're quite difficult to set up so we really recommend that people take the time to invest in those partnerships right at the beginning to really get that clarity on who could or should be referring to arts projects to make sure those projects are visible to people that they're inclusive and that this is also supported by a range of kind of marketing resources that encourage people to refer and participate we don't talk a lot about about comms and marketing in this sector and I think we need to more because it really helps to advocate for these projects as well as make them more accessible to people something I've also been thinking a lot about recently is referring on so what happens after somebody's had an intervention and an experience with an artist or with an arts program probably for a relatively short period of time perhaps a few weeks or a couple of months what happens afterwards what if their needs are not met in that project and they need to be referred back into the health system or referred on for further support or what if they've had a good experience they're feeling better but now they want to move into a more general perhaps arts activity in their community so it's not always just about what happens before the project it's also about what happens after the project in that very practical sense from a practitioner's point of view I think evidence of impact on people in the system we would love to see a move to projects and partners within projects being more strategic about evaluation and about research really thinking what are my goals with this research and this evidence why am I doing this if this is about future funding who's going to fund me what do they think what would they like to see and off so often you know these are such complex interventions and such complex projects that it can be it can be quite overwhelming for practitioners to think about what should we measure what should we what should we be sort of thinking about in our evaluations how how should we go about that in terms of methods so we've been very much encouraging people to roll back and think well what are the actual goals for this evaluation what do you want this to do it can't just sit on it you know can't be a report that sits on a shelf you actually before you start doing it have to have a way of thinking how it's going to be helpful to you later on we'd also love to see more use of the existing evidence base um when people come to projects that they're not starting from scratch that they there is accessible information that they can get that that shows what the impact of their project might be before they even start and we would also really urge health and care leaders and systems to give better access to data from within the health systems now what i mean by that is if for example you are interested in whether your arts project can help um to prevent re-referral or re- admission into a mental health um secondary care facility for example the facility itself should already be capturing a lot of data about who who's coming and going so in reality if you can work better with that system you should be able to access that data and you should be able to get an evaluation of your project without having to get the participants to fill in lots of forms without having to do all that groundwork for yourself separately we would really love to see uh some steps forward in that now you can probably tell from um my uh from from what i've said already that there is not really an answer to that who's responsible question there are lots of potential answers to it and that this work is really supported by an ecosystem of different types of organizations who need to find a way of not just working better together of articulating what they themselves can do so from a funder's perspective what can they do from a practitioner's perspective what can they do to make this work more sustainable researchers commissioners network organizations like the culture health and well-being alliance we all have to think about what our individual roles in progressing this work are and really go for that so at the alliance we've been working with a funder called the bearing foundation to think about what a model for sustainable practice might be and what those different stakeholders might be able to contribute to that you'll notice that there's a common thread with all of them which is co-produced so that's really the call to action for everybody to work together to find these solutions but beyond that there are more nuanced recommendations that we would make to these different groups about how better to support practitioners how to prioritize what research gets done and gets funded and how to fund partnerships better and also for practitioners how to nurture their resilience so that they are they're in the best possible place to deliver the highest quality work so I think what I'm saying is that everyone has a part to play in this and in the program in Wales we're digging into that again a little bit more so we have some recommendations for funders around how you really get in there and fund long-term partnerships this is work that takes a long time to develop how do you invest in the evidence base how do you confirm that if you're funding a partnership project there's equal commitment from the health partners and from the arts partners that's really really important how do you fund goals-based partnerships how do you fund innovation you know innovation is not about having one idea and that idea being brilliant and that idea being stellar and amazing from day one actually often what happens is that idea is okay but it needs to be shifted and changed and you need to try something else and you need to look at it from a different perspective some of the mechanisms we have around funding this work don't really allow for that because they expect you to set out at the beginning of a project exactly what you're going to do exactly what the impact is going to be what we would like to see is more experimental funding so more funding based on goals and partnerships and less funding based on on a kind of tick box delivery of outputs and outcomes we also call for more diversity in terms of the collaborations we think if you think about the last slide with the kind of range of perspectives that we need to think about we would love to see that more embedded in funded funded projects as well and something that the at the end of the last talk somebody asked was this question of kind of funding models and who should pay in this philosophical one so I definitely think as a sector we still need to be more analytical about the different types of projects that this that this sector is and make and is and makes up so for example you know who's the best person to fund a more community-based arts intervention who are the best people to fund arts activities in hospital and health settings and I guess what I'm saying is that there will be different answers depending on the setting of a project the the life cycle of it the stage that it's at and I think if we could get more analytical about that then we would have a bit more of a chance of kind of answering some of these questions we also have some recommendations for health leaders so there's a there's a real role for health leaders in all this around advocating for this work but also about creating an environment in health systems that can really support innovation can support the referral of people into creative projects the development of new projects the evaluation of projects really that start that we need that kind of leadership engagement for this for this to work and it does come from that giving permission for staff in health systems to work with artists to develop and 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 run these projects and what I mean by that is making it part of their role so at the moment the arts in health systems can often still feel like an add-on you know can often still feel like something that sits around the outside of health systems not exclusively but often it does I'm sure you'll talk a lot about policy as well and I think that again this is a very philosophical and probably slightly political way to approach this but I think there are models for how this can work in the policy sphere for example sport you know we all we none of us really question as a society whether people should have good quality access to sport and and physical exercise for their health but we don't always take that view when it comes to culture and as being central to our health and well-being and our life and I think if policymakers could take more of that approach that would be a really game changing shift and really allow funders and health leaders to follow some of those those other recommendations on a practical level we'd love to see longer-term budgets as well in health to allow for statutory health and care organizations to be a bit more innovative but also to invest longer term in partnerships there's quite a lot in here so I'm not going to read through all of it but if anybody would like to see it then please do get in touch with me after the presentation and I would love to I'd love to share more about the in-depth findings we've got there and I would like to finish with one case study from the UK that I think really sums up a lot of what I've said about what's good about practice what a good model for this kind of practice could be and and what sorts of things might make this work more sustainable in the future and that's a organization called breathe arts health research they are a social enterprise based in London the UK and they for 10 years have been running a program called the breathe magic intensive therapy program now 10 years ago a magician was performing in a hospital in London just kind of going in there to cheer up cheer up the kids and to brighten their day a little bit and one of the occupational therapists in there notice something about the hand movements so magic's very 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 fine motor skills very very focused and very kind of technical around the movement of your hands now occupational therapists in the hospital at the time were working with a group of young people who suffer from a condition called hemiplegia and that is where you have a pronounced weakness on one side of your body it often happens in elderly people when they've had a stroke but it can happen for children as well due to a brain injury or stroke around birth and there are nice so there are clinical guidelines in the UK for how to treat hemiplegia and how to get young people to strengthen their their weaker hand their helper hand and that revolves around intensive therapy so it revolves around 60 hours of young people doing repetitive movements with their hands to try and strengthen their motor skills as you can imagine quite difficult to get kids to focus on that so the OTs noticed that actually lots of those movements they were trying to get kids to make that would really help them in their daily lives around for example doing up their buttons on a shirt or opening a packet of crisps or something they noticed that actually there was a lot of similarities in those movements so that they started to have this sort of genesis of an idea they took to the magicians and the magician said okay will you show us OTs you show us what hand movements you need the kids to work on we'll go away and we'll formulate a set of magic tricks that the kids can learn that will integrate those specific movements so whether that's turning over their hands making a pinching grip or grabbing something together you tell us and we'll design magic tricks around them they went away they did that and what they did was was invited a group of these young people to come on to a camp for a couple of weeks and to learn magic so they came they didn't come on to do therapy they came on to learn magic and to learn to be magicians um now they initially tested this and it was very successful so lots of the kids had very significant improvements in their hand movements they could do up their buttons they could open their packets of crisps it was really really remarkable but what the OTs and the magicians and the project leads needed was evidence that this was helping so they invested in a three-year research project to find out whether on a clinical level these magic camps these magic programs would really really help um to shift some of those clinical markers that would show that their hand movements were improving so that was a huge investment a huge investment of money a huge investment of resource and timing and a huge amount of commitment on behalf of everybody involved um not least the funders and that research program did show after three years that those movements were effective for the young people but also that there were obviously loads of other brilliant things about the camp so they had better social skills they developed their public speaking skills they could do things that kids at school other kids at school couldn't do you know they could perform magic and these are all really life-changing experiences for these participants and i'm really pleased to say that this program still runs it's now an nhs commission service um but i think what we can learn from this is that it it took 10 years you know it took 10 years to develop this and so if you think about that as a model of good practice there's a lot for funders commissioners health leaders and practitioners to draw from in terms of thinking about future development in this sector but the good news is it is possible so i hope that was helpful and i hope um i hope that there's some takeaways for for each of you in there and i'm happy to take any questions grazie rosido credo che non solo ci abbia ispirato ma ci ha dato tantissimi spunti piani di lavoro direi che c'è tantissimo da fare quindi prego ci sono domande sicuramente rimarremo in contatto con lei ci abbiamo queste indicazioni che ci ha dato però sarebbe anche bello collaborare quindi sicuramente non non oggi ma nei prossimi nelle prossime settimane prossimi mesi ci metteremo in contatto con lei per avere un aiuto anche per quello che stiamo cercando di fare qui siamo abbastanza all'inizio direi se non non ci sono domande sì prego thank you for your presentation i was wondering how is it was it to get the community involved do you talk a lot about access and community practice was it the first hurdle to get the community to accept this new way of treating disease or disability i'm not 100% sure what you mean by community thank you but i think i think that there are different communities involved in this work and i think it depends very much on the type of project projects that are based in kind of local communities so more community based activities for health and well-being um i think i've always had very very good engagement from from kind of people in the local communities um particularly if there are specific kind of so one of the one of the projects i worked on was choirs for people affected by cancer they were very community rooted um cancer is a topic that affects pretty much everybody um so there was a lot of kind of um a lot of engagement a lot of involvement there i think when you think about other types of communities so if you think about the health community um it's an interesting one i think that health health leaders people in well from where i am the nhs the national health service in the uk very very interested in this work you know everybody has an instinctive um you know empathy for this work everybody has everybody's creative everybody uses the arts and for art for their health and well-being whether they know it or not so as soon as you suggest to somebody as a person you know that this is a thing they get it um but i think what's more difficult about health communities is is the very sort of regimented nature of how they approach their jobs you know that they have a very specific job description a very specific set of targets and often with this work we're asking them to shift outside of those uh job descriptions outside of those to-do lists outside of those sort of transactional targets of care and health and treatment so that's where that's where things are challenging it's not in the will often it's in the way that 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 the that we want to approach this work and that's why i talk about pathways because that is for me and it's and especially through covid you know the the stress that we've seen in the health systems has made that one even more challenging for people to take a more holistic view of people's health it has it's been very very much about kind of get people in get them medicated treated get them out again um and unless we can get people in health systems to feel able to shift away from that way of working um we're going to still see this continue to be difficult i hope that answers your question rosie can you close your presentation otherwise we cannot see you thank you okay great um no more questions so we really thank you for for your time for accepting our invitation and uh thanks a lot so see you i hope in uh in the next future in present here in lugano as we told you thank you very much thank you ok ok allora adesso noi torniamo dalle nostre parti e abbiamo una una bella testimonianza molto vicino a noi prima di pranzo se vi stavate preoccupando e poi ne abbiamo un'altra subito dopo il pranzo quindi io chiamo ehm isabella lenzo e aglaia aritz decidete voi l'ordine che ci raccontano l'esempio di 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 lacedu come eh la cultura come motore di inclusione e benessere e si presentano anche prego a dopo adesso mi sentite buongiorno sono isabella lenzo la responsabile della mediazione culturale dell'ac con me ci sarà poi aglaia haritz che collabora nel progetto di inclusione ehm ringrazio luigi di corato e silvia misiti per averci dato l'opportunità di fare questa breve presentazione su quello che qui all'ac facciamo nell'ambito il più in generale del della mediazione ma anche poi nel rapporto con le persone che con fragilità e con necessità speciali che vengono qui e alle quali cerchiamo di dare delle occasioni per diciamo di benessere siamo molto lontani da trial clinici randomizzati per ora ma questo forum potrebbe essere un'occasione poi per procedere in un futuro di collaborazione seguendo quegli ingredienti che Rosy Dove ci ha dato poco fa e siamo lontani però ecco negli anni abbiamo sviluppato delle attività delle proposte e che adesso andiamo ad illustrarvi la Kedu è un progetto di mediazione culturale che nasce insieme all'AC dunque questo luogo è stato inaugurato nel 2015 e in questi sei anni oltre alle attività artistiche nell'ambito delle arti visive con il Museo d'Arte della Svizzera Italiana nell'ambito della musica classica e delle attività delle arti sceniche in teatro c'è un ruolo sociale che l'AC vuole avere ed è quello di consentire attraverso l'arte, attraverso la cultura un rapporto con il pubblico che vada in una fruizione che non sia soltanto passiva ma che sia un momento di incontro un momento di incontro dedicato a tutti il nostro direttore Michel Gagnon da sempre è un po' riduttivo chiamare uno slogan ma un motto è l'AC per tutti proprio nell'intento di definire questo luogo come un luogo di incontro luogo di incontro fra l'arte, la popolazione ma in quest'ottica anche di benessere un benessere che viene da questo approccio all'estetica come diceva prima il professor il professor Grassi che ringrazio nel senso che come si è già visto l'arte consente attraverso questa facoltà comunicativa di attivare delle aree del cervello che creano benessere e qui si cerca attraverso il progetto di Lachedu e di inclusione e di accessibilità di rendere questo ancora più attivo abbiamo la fortuna di essere un centro culturale interdisciplinare dunque l'arte visiva, la musica, il teatro si possono fondere per ancora aumentare questo impatto sul benessere o comunque su questa fruizione che tutti quanti noi possiamo avere venendo qui e attraverso Lachedu abbiamo una serie di proposte, sono quasi 200 durante l'anno volevo farvi vedere il sito ma non si può intervenire a livello tecnico sono 200 attività che noi proponiamo a tutti i tipi di pubblico partendo da un anno con la primissima infanzia per arrivare poi anche a progetti per le persone anziane dunque si copre tutta la fascia della popolazione cercando di trovare il modo per ognuno di rivolgerci attraverso un linguaggio comprensibile e un linguaggio che possa favorire la comunicazione vi faccio vedere solo un breve video che riassume quello che è stato fatto in questi anni e poi andiamo un po' invece su quel che è l'ambito dell'inclusione ci dovrebbe essere una musica non so se dalla regia mi possono aiutare la musica non arriva ma è un ottimo esempio in realtà perché con la musica questo video acquisisce una sua dimensione molto diversa possiamo usarlo come esempio di questa facoltà che hanno le arti di interagire fra di loro aspetto visivo, aspetto musicale che normalmente in questo video creano una fruizione diversa usiamolo come esempio comunque adesso possiamo anche procedere per far vedere un po' che ci si rivolge a tutti nell'ambito delle arti visive, nell'ambito della musica qui nella Hall in Musica al mattino, la domenica rivolta a tutti proprio nella Hall del Centro Culturale Arte e Yoga di cui vi parlo brevemente ecco i bambini che arrivano avete attività anche un po' più ludiche il teatro e la musica il momento di espressione creativa dei concerti interattivi per famiglie e bambini concluderei così abbiamo visto un po' che qual è l'ambito in cui lavoriamo nella mediazione culturale qui a LAC tutto questo avveniva prima della pandemia dunque queste folle di persone, di bambini ci popolavano al centro culturale più o meno ogni anno coglievamo 30.000 partecipanti dunque sono tanti in questo luogo diciamo ancora piccolo che non si apre non siamo una megalopoli in una grande città però qui comunque 30.000 partecipazioni sono comunque un buon numero è arrivata poi la pandemia e ci siamo fatti un po' di domande cosa proporre una volta che si riapriva e poi intuitivamente molto intuitivamente siamo andati nell'ambito del benessere nel senso che durante la pandemia ci siamo accorti che i momenti più belli più sereni durante il primo lockdown sono stati quelli legati magari a proposte musicali in Italia c'era persone che suonavano sui balconi tutta questa atmosfera che la musica poteva generare e che rendeva un momento così brutto un po' meno brutto abbiamo cercato di prenderla e di farci ispirare e dunque sono nate anche delle attività più legate a questo tema del benessere chiaramente non benessere curativo non erano rivolte persone che avevano problemi fisici o mentali ma erano per tutti abbiamo avuto arte yoga musica yoga dunque lo yoga coadiuvato da un pianista che suonava dei brani appositamente scelti per potersi relazionare con quel movimento sempre nell'ottica di un benessere fisico ma anche psichico abbiamo delle primi passi nell'ascolto per i bambini piccoli dai 2 ai 4 anni anche lì con una razione una fiaba sempre coadiuvata da un momento musicale e una psicopedagoga che è musicale che genera un'interazione e facilita la relazione soprattutto fra il bambino e il genitore presente o l'adulto presente piccoli momenti scelti con persone che sappiamo essere formate in quest'ambito ma avevamo già iniziato qualche anno prima con un'esperienza che sarà raccontata nel pomeriggio abbiamo qui Patrizia Nalbach che nel 2014 aveva proposto questo momento di incontro al museo dedicato a persone con Alzheimer ma ve ne parlerà nel pomeriggio Patrizia questo progetto si è sviluppato si è arricchito anche qui senza studi randomizzati ma comunque sicuramente un beneficio da parte dei partecipanti invece parallelamente al progetto Lachedo dunque destinato un po' a tutti e anche un po' a modo congenito si è sviluppato all'interno dell'AC un settore che abbiamo chiamato di inclusione e accessibilità nel 2015 questo desiderio di essere comunque al centro di un luogo che consente a tutti di fruire della cultura abbiamo avuto anche un po' la fortuna di avere una fondazione che ci ha supportato la fondazione informatica per la promozione della persona disabile che ci ha sostenuto per poter accogliere all'interno del centro culturale una persona che appositamente si dedicasse all'inclusione e l'accessibilità per persone con fragilità e disabilità dunque già dal 2015 c'era una persona si chiamava Alice una collega che ha iniziato soprattutto a formarsi perché non eravamo esperti in quest'ambito inizialmente c'è stato un processo di conoscenza delle best practices di studi di formazione e ci si è dedicati un po' alla ricerca di quello che è stato fatto si è iniziato a creare una rete nel territorio e poi è arrivata un'altra persona a cui fra poco darò la parola Aglaia Haritz che ha continuato questo processo soprattutto nell'accoglienza di gruppi del territorio con progetti dedicati soprattutto alla creatività manuale Aglaia è un artista e questa sua capacità anche di aiutare nell'espressione artistica le persone e questa sua grande capacità anche di relazionarsi hanno contribuito in questo progetto di inclusione e si è cercato anche di creare delle sinergie nel territorio con chi già lavorava nell'ambito dell'inclusione e dell'accessibilità e dunque con associazioni del territorio che si occupano dunque con istituti che accolgono le persone ma anche con chi in diversi ambiti propone dei progetti dunque l'AC diventa un luogo in cui anche chi è specialista in una determinata relazione con il pubblico e in una determinata proposta può venire e trovare un modo di collaborare per proporre a tutti delle possibilità sia di socializzazione di inclusione e di accoglienza dell'altro in questo scambio questo è un po' il percorso che abbiamo fatto che ho cercato di illustrarvi un po' brevemente ma cedo ora la parola ad Aglaia Haritz che andrà un po' nel dettaglio nel presentare quali sono state le attività che abbiamo svolto in questi anni nell'ambito dell'inclusione e dell'accessibilità grazie grazie a tutti come ha detto Isabella appunto io sono Aglaia e mi occupo dell'accessibilità dal 2017 e dico brevemente la mia formazione appunto ho fatto una scuola d'arte prima poi ho lavorato spesso con persone con disabilità nell'ambito di differenti campi sportivi dove ho organizzato le attività appunto sportive o tempo di vacanza con persone con disabilità in differenti associazioni per la Svizzera Pro Cup Plus Porto anche a Berlino e le Bensilfe dove ho potuto raccogliere delle esperienze abbastanza importanti per rapportarmi con delle persone con differenza poi ho seguito una formazione di arte e terapia all'istituto per arte e terapia umanistica di Deggis seguendo il metodo di Bettina Egger e appunto grazie a FIPT continuo a formarmi in differenti simposi o incontri come per esempio l'Integrart a Zurigo ci sono annualmente delle conferenze internazionali del Museo Inclusivo dove ci sono delle presentazioni di esperienze tra musei e inclusione veramente vaste molto interessanti e questo è un incontro annuale che seguiamo ultimamente online ci sono dei gruppi di lavoro organizzati da Point Firm sia in Ticino che anche il resto della Svizzera appunto come ho già accennato Isabella c'è l'accoglienza e la rete di contatti che stiamo creando sul territorio abbiamo per esempio accolto alla Hall di Musica la domenica mattina un gruppo di persone cieche che è venuto a sentire il concerto nella Hall o c'è il corso di formazione di Adgabes arte, chiacchiere e caffè che consiste in un corso di tra sei e otto incontri annuali dove ci sono degli adulti con differenze che si iscrivono e praticamente li accompagniamo li accogliamo e andiamo a vedere le mostre con loro dopodiché andiamo a bere un caffè e si condivida un momento tra parlare della mostra di quello che si è visto ma anche della vita o qualche cosa dopo nell'arco dell'anno ci si conosce meglio e appunto dopo atto incontri si diventa c'è anche un nucleo che torna sempre e il gruppo sta diventando sempre più grande questo infatti era stato un progetto che era già cominciato da dall'inizio appunto lavoriamo con tutte le discipline all'AC al Museo d'Arte della Svizzera Italiana l'attività principale è accogliere gruppi con diversità e proporre delle visite guidate e adattate adattate vuol dire che quando arrivano i gruppi bisogna riuscire a trasmettere il contenuto della mostra o quello che si vuole trasmettere dell'esposizione in maniera che viene capito e interiorizzato più facilmente dopodiché andiamo di solito nell'atelier dove c'è un momento di creatività che proponiamo un'attività di solito legata all'esposizione che sia la tecnica o il contenuto dove è un momento importante perché c'è questo momento più intimo dove si può stare un pochino più insieme c'è solamente il gruppo mentre in mostra c'è comunque la presenza prima di tutto di tante opere ci sono i visitatori, ci sono i custodi e malgrado tutto viene un po' si crea una distrazione in qualche modo abbiamo anche per dei gruppi con persone con disabilità visiva offriamo delle visite guidate dove c'è chiaramente la parola che spiega gli oggetti che si vedono le esposizioni raramente si può anche toccare qualche volta si riesce tramite permessi a riuscire a toccare le opere e proponiamo vi ho portato degli esempi quando possiamo proponiamo per esempio questa è un'opera riprodotta dal nostro tecnico Matteo Jeanne Arp Forme printanière placée selon les lois du hasard dove praticamente c'era l'opera reale al muro e mentre raccontavo alle persone con appunto ciechi o con i povedenti che cosa vedevano potevano anche toccare e davano aiuto anche per immaginarsi forse meglio questo è ancora al momento in mostra è Hodler anche qui mentre si raccontava possono toccare sono cose come sassi, sabbia o stoffa proviamo in qualche modo giustamente per ogni gruppo per ogni situazione di offrire quello che si avvicina al meglio quello che possono desiderare e la cosa molto importante secondo me è che chiaramente offriamo la possibilità di accedere ai contenuti ma anche avere questa inclusione nel senso che quello che la visione delle persone con differenza che come vedono loro le esposizioni è anche un fattore molto importante dunque sono le due direzioni che sono interessanti abbiamo anche appunto questi link purtroppo non funzionano perché sono dei link esterni comunque ci sono sul sito dei video e profondamente delle opere della collezione in lingua dei segni e sono anche una collaborazione che continueremo anche con la Federazione Svizzera dei Sordi che continueremo e aumenteremo con l'Università della Svizzera Italiana c'erano più progetti che sono stati portati avanti al momento c'è questo progetto BEST dove si ricerca un oggetto un prototipo digitale per favorire la lettura delle didascalie attraverso appunto dei pittogrammi o la comunicazione aumentativa alternativa o degli oggetti di realtà aumentata è uno studio che stanno portando avanti stiamo collaborando in questo progetto questo è il piano di misure del partenariato della cultura inclusiva abbiamo già stipulato il contratto con il Masi dunque la servizio di cultura inclusiva è il Masi stiamo realizzando anche con il LAC siamo ancora al lavoro questo servizio di cultura inclusiva propone appunto questo piano di lavoro pieno di misure dove è proprio un lavoro nel tempo si sviluppa seguendo 5 punti di 5 campi d'azione appunto l'offerta culturale l'accesso ai contenuti l'accessibilità architettonica l'offerta di lavoro la comunicazione ed è molto utile per riuscire veramente a sviluppare nel tempo e continuare a fare un lavoro inclusivo a fondo un po' nelle radici per le arti sceniche e la musica proponiamo ai gruppi di poter visionare le prove spettacolo o le prove tecniche durante appunto le prove sono dei momenti molto particolari perché prima di tutto si entra negli spettacoli in una maniera un po' diversa che è quello che siamo abituati noi nel giorno della presentazione e spesso appunto si mette l'accento su dei momenti che non si darebbe tanto per importanti dunque anche lì la visione intercambiabile in qualche modo che si può vedere aprire la mente vedere tutti i punti di vista è molto importante secondo me Annie Hanauer è una danzatrice che appunto è stata selezionata per la residenza artistica lei appunto vive una disabilità e sviluppa il suo lavoro proprio su questi temi e sta al momento lavorando è stata in residenza sta lavorando per uno spettacolo in collaborazione con Teatro Danzabile era un open call dove c'erano dei performance internazionali che sono stati selezionati per seguire questo laboratorio appunto condotto da Annie Hanauer tra i quali ha selezionato degli artisti che collaborano adesso nel nuovo progetto che sta facendo dunque qui erano 5-4 giorni dove c'erano veramente degli danzatori o degli attori tutte veramente inclusive nel senso più largo perché erano da tutte culturalmente differenti età con le disabilità differenti lingue differenti c'era anche un piccolo bebè che aveva bisogno anche delle sue esigenze dunque era proprio molto molto inclusivo quando era qui a Annie Hanauer abbiamo organizzato durante la Festival Urme un laboratorio anche con le scuole medie dove appunto il corpo il movimento del corpo era il mezzo per arrivare a a diventare consapevoli o comunque dell'inclusione anche qui purtroppo il link non funziona c'è stato questo spettacolo Silent è un concerto di Gabriele Marangoni dove era la visione l'ascolto veniva praticamente loro il gruppo proponeva un concerto non per le persone sorde che cosa sente la persona vera la persona tra virgolette diciamo normale che sente ma sono le persone che sentono come percepisce il suono le persone sorde ed è veramente molto interessante come c'è questo scambio di posizione che aggiunge esperienza e ricchezza in realtà alla nostra quotidianità abbiamo organizzato una tavola rotonda per approfondire la per approfondire preparare o andare un pochino più in profondo di questo lavoro che hanno svolto Happy Island era anche nell'ambito di Festival Orme dove Laribaud e Danzando con Differenzia una compagnia con persone con disabilità hanno collaborato e hanno proposto questo spettacolo molto bello che parlava dei sogni dei luoghi immaginari molto molto originale anche in quell'occasione abbiamo proposto un momento d'incontro e uno scambio con il pubblico in questo caso era appunto nella Hall ed era insieme a Orme Festival durante la pandemia abbiamo sviluppato anche dei progetti online come per esempio abbiamo realizzato la descrizione di una visita a LAC ideata per le persone cieche poi abbiamo visto che è un'esperienza interessante un po' per tutti dunque una voce ci accompagna negli spazi del LAC e ci si può immaginare la storia l'architettura e un pochino le informazioni che riceviamo da questo forse possiamo fare una una prova clicco un po' La Gorà La Gorà La Gorà e il giardino un'oasi di pace in città siamo saliti lungo le larghe scale della Hall fino al ballatoio e siamo usciti verso il parco adesso ci troviamo nel La Gorà termine che designava la piazza principale della Polis nel mondo greco è un anfiteatro all'esterno provvisto di gradinate che si presta perfettamente per spettacoli e rappresentazioni all'aperto guardando la gradinata si ha subito voglia di andare a sedersi per aspettare lo spettacolo magari sorseggiando una bevanda e chiacchierando in mezzo alla gente oppure salire fino all'ultimo scalino per avere un nuovo punto di vista sul Lago Ra e ammirare il parco in cima alla gradinata infatti si estende il giardino del Lac lungo un pendio verde si intravede un sentiero che sale a zigzag fra gli alberi in uno spazio pianeggiante alcune panchine sono disposte all'ombra degli alberi offrendo un luogo dove trascorrere momenti di relax nella calma e nel verde fare una pausa dopo una mostra prima di uno spettacolo o di un concerto immersi nella natura e nella tranquillità il giardino rappresenta un polmone verde nel cuore della città con un'estensione totale di circa 5.000 metri quadrati dal parco si può accedere al teatro studio una sala con una capienza di 100 persone che funge da spazio di prova autonomo e da sala teatro nel caso di spettacoli sperimentali di piccole dimensioni utilizzabile sia da compagnie teatrali che da compagnie orchestrali e per per conoscere meglio la diversità sarebbe interessante adesso sapere da voi che ognuno disegna brevemente quello che si immagina da questo piccolo audio cosa che non faremo però appunto chiaramente ognuno avrà un'altra immagine un'altra visione di quello che ha sentito e voilà questo è tutto grazie Isabella grazie Aglaia tantissime tantissime cose tra l'altro non conoscevo quindi complimenti allora a questo punto direi che mangiamo dopodiché dopo pranzo ascoltiamo Caterina sì sì ovviamente se ci sono delle domande intanto si preparano io vi vi dico qualcosa per il pranzo ma non vedo braccia alzate no allora abbiamo preparato un diciamo leggero pranzo che è stato curato dalla fondazione Diamante per noi la fondazione Diamante si rivolge da tanti anni a persone disabili adulte se c'è qualche domanda nel frattempo alzate la mano io vado avanti predispone e offre soluzioni differenziate di sostegno socioeducativo si occupano di circa più di 600 persone ci sono almeno 200 operatori e sono soluzioni diversificate come le sfaccettature di un diamante per questo si chiama fondazione Diamante il pranzo lo potete prendere nella sala qui accanto mi raccomando ci saranno delle bottigliette di plastica non abbiamo potuto evitare la plastica in questa occasione tra covid e altre disposizioni c'è però un contenitore e quindi vi prego di raccogliere lì perché noi raccoglieremo tutte le bottigliette che distribuiamo oggi ok domande voglio semplicemente dire una piccola cosa e ringrazio Isabella Aglaia per questa presentazione ci teniamo a dire che il progetto cultura e salute ha avviato una partnership con il LAC quindi uno dei motivi per i quali abbiamo inteso presentare l'esperienza del LAC oltre per condividere con voi i grandi progressi che si fanno nell'ambito dell'accessibilità e anche perché uno degli obiettivi è quello di concentrare anche una parte di sforzo del progetto attorno a questa esperienza per federare quello che accade quindi fare in modo che ci sia anche un luogo che sia in grado di accogliere le tante cose belle che abbiamo scoperto grazie alla nostra call e far sì che anche attorno al LAC si possa cominciare a creare un luogo che abbia delle condizioni di accoglienza per i progetti legati non solo all'accessibilità ma anche più grandemente attorno ai progetti di cultura e salute quindi grazie davvero a Michel Gagnon che non ha potuto essere con noi stamattina ma grazie anche a Isabella e a Glaia che hanno dato la loro disponibilità per realizzare con Fondazione Ipsa e con la città di Lugano questo percorso quindi era una piccola precisazione che mi sembrava però importante dato la vostra presenza oggi qui buongiorno a tutti questa giornata fa parte dell'organizzazione innanzitutto grazie per aver investito anche il sabato pomeriggio in questo viaggio di conoscenza collettivo perché veramente stiamo sviluppando un'intelligenza collettiva connettendo mondi dalla Svizzera a livello internazionale io sono Caterina Seia mi definiscono una pioniera però penso che oggi non sia più tempo di pionieri ma sia tempo veramente per fare dei salti di scala mi è stato chiesto di presentarvi in momento post-prandiale il caso di Fondazione Medicina a misura di donna perché è un caso di empowerment della comunità così prendiamo le energie per leggere questo territorio che attraverso una call for status ha fatto emergere delle attività molto promettenti che possono ispirare futuri percorsi oltre a Fondazione Medicina a misura di donna che vi illustrerò nella vita mi occupo anche di una fondazione che frequenta Lugano spesso perché cura politiche culturali si chiama Fondazione Fitzcarraldo e poi l'ultima creatura nata durante il lockdown ve la presento al termine della chiacchierata grazie a tutti voi dimenticavo mi hanno guardata in modo severo che dagli esordi ho il privilegio di seguire questo percorso strategico della divisione cultura della città di Lugano con Fondazione Ipsa perché è da tre anni che siamo in dialogo e quanto avete visto porre in essere oggi è veramente a mio avviso da osservatore uno dei grandi casi di intervento strategico tra pubblico e privato che abbraccia più ambiti ma poi faremo un sum up e buon pomeriggio a tutti voi allora fioritura delle persone e della comunità ieri il nostro professor Blumer ci ha detto che avremmo dovuto correggere probabilmente il titolo del nostro progetto sostituendo alla congiunzione cultura e salute il verbo cultura e salute la cultura è ciò che ci rende umani ed è uno dei determinanti sociali della salute e l'elemento la partecipazione culturale attiva come ieri ci ricordava di Corato che guardiamo in un'ottica salutogenica cioè di condizioni di elementi che creano salute e promuove quelle che OMS chiama le life skill le abilità per la vita quindi oggi parliamo di fioritura umana e guardiamo Lugano da un altro ospedale da Torino Torino ha uno dei centri la città nella quale in questo periodo abito ha uno dei centri più antichi per la ginecologia e ostetricia è uno dei più grandi in Europa dedicato alle donne scuola dal 1728 sede di innumerevoli primati non solo storici ma anche contemporanei questo è un ultimo risultato della ricerca scientifica ad altissimo livello ma c'è sempre un ma ovunque e vi prego di sospendere il giudizio questo luogo che ha circa 7000 nascite vogliamo chiamarle nascite non parti l'anno da genitori provenienti da 90 paesi quindi un luogo multiculturale per definizione si trova in un'area della città che dagli inizi del 1900 è dedicata alla cura un'area che era stata costruita in modo visionario vicino alla collina vicino al fiume ma cento anni di sviluppo urbanistico hanno soffocato questo complesso che come vedete è una fortezza del cuore appare appare in questo modo nonostante la qualità delle cure e delle prestazioni è un centro di riferimento non solo nazionale ma europeo soprattutto nell'alta formazione che cosa è accaduto nel 2009 grande crisi come tutti noi sappiamo disorientamento complessivo i medici fanno un appello alla società civile e dicono lavorate insieme all'università all'azienda sanitaria per sbloccare il grandissimo progetto del parco della salute avveneristico che ancora non era stato attivato e lavoriamo insieme per un'idea della cura proprio in questo momento di profonda crisi non avevamo contezza di quello che sarebbe arrivato dieci anni dopo ma che è determinante in un ambiente straordinario scientificamente ma così così provato e cerchiamo di cambiare la percezione dell'ospedale ritornando alla sua dimensione storica l'ospedale come parte di un ecosistema come parte di una città della cura l'ospedale non solo come luogo nel quale rivolgersi per attività prestazionali ma luogo nel quale identificarsi risorsa centrale per una comunità e proprio con questa pandemia direi che il tema della salute è balzato all'attenzione nelle agende politiche e nella vita di tutti noi e proprio con questa pandemia abbiamo ben compreso che la salute e ne parlavamo anche questa mattina non è compito soltanto della sanità ma è compito di ogni politica tutto quello che abbiamo intorno concorre a creare salute ma come rendere l'ospedale un luogo della comunità nel 2009 nasce quindi avete visto queste signore che arrivano da campi disciplinari diversi che hanno accolto la sfida di lavorare a fianco dei medici all'interno della struttura universitaria il primo atto è stato un progetto di processo di ascolto ma non un processo iniziale un processo continuo sempre Blumer ieri ci parlava della rilevanza dei processi partecipati della rilevanza dell'embodida cioè di vivere con profondità le situazioni e per partire nell'umanizzazione della cura la grande richiesta è stato l'ascolto con anche a categorie quasi invisibili all'interno dell'ospedale un ascolto interno un ascolto dei pazienti e un ascolto delle loro famiglie e paradossalmente nessuna richiesta è pervenuta in merito alle prestazioni sanitarie ma tutte riferite alla qualità del contesto quanto sono importanti gli ambienti e lo vediamo oggi noi li abitiamo ci abitano in un principio di circolarità oggi il Sant'Anna appare così e appare così per cinque piani di un mega building sono passati otto anni vediamo che cosa è accaduto sul tema della giornata mi permetto anche delle connessioni con i casi che sono stati presentati un punto cardine come abbiamo detto un processo partecipato un coinvolgimento della comunità interna e quindi del personale ai diversi livelli di appropriazione quindi non attività appoggiate ma attività sentite in risposta ai bisogni e corealizzate e una valutazione d'impatto non ex post ma progettata ex ante una valutazione d'impatto che poi vedremo su diversi livelli in primo luogo come qualcuno ha detto stamani sul tema fondamentale benessere dei carer se le persone che stanno in un ospedale non si sentono al centro con i loro bisogni con professioni che sono a rischio di burnout sempre e pensiamo dopo questi dopo questi due anni come può la relazione di cura essere una relazione come possiamo andare incontro al paziente e alle famiglie per lo sviluppo delle sue potenzialità oltre all'approccio biomedicale saranno poi a vostra disposizione i questionari che sono stati sviluppati con l'università Yulm di Milano che ci ha seguiti dagli esordi perché Yulm e non l'università di Torino perché allo Yulm c'era il professor Grossi con il professor Pierluigi Sacco due esperti che hanno varato corsi hanno varato progettualità e con delle risorse dedicate in questa direzione e quindi capire da dove partivamo in termini di qualità della vita benessere psicologico percepito andiamo subito al termine della valutazione che è un continuum il miglioramento del percorso che vedrete che si monitora costantemente attraverso focus group questionari campagne d'ascolto e azioni di coinvolgimento è tangibile in termini di scala delle relazioni umane dell'umore del clima lavorativo e del comportamento dei pazienti e dei familiari e questo ha un impatto in termini organizzativi di infrastruttura allora un elemento centrale è stato l'introduzione delle arti come risorse a salute delle persone e delle comunità non è uno slogan il progetto parte da l'esperienza di Turku oltre a quella del professor Grossi alla Yulm che è stato citato come capitale europea della cultura 2011 ma il suo lavoro è iniziato a metà degli anni 2000 focalizzato proprio sul tema cultura e salute parte da altri ospedali benchmark uno per tutti sono molti ma uno per tutti il Chelsea Westminster Hospital con le review della Rosalia Starikoff negli anni 2004 che sono ancora un riferimento e trova vigore da un convegno che aveva delle connotazioni simili a quello odierno quindi questi sono momenti generativi che aprono visioni e spingono e spingono all'azione quindi partire da quello che c'è per declinarlo ripensarlo alla luce dei contesti che cosa di particolare è stato avviato nella consapevolezza non avevamo ancora la ricerca OMS che il corpo di evidenze era consistente ma assolutamente sconosciuto che l'alta formazione era prevalentemente biomedicale e che eccetto qualche visionario questi temi non appartenevano ai più ringraziamo dei risultati della ricerca scientifica biomedicale ma sempre come dicevamo ieri possiamo arricchirla con un approccio biopsicosociale abbiamo quindi attivato una piattaforma di confronto che oggi contempla 90 realtà prima della pandemia attive in ospedale 90 istituzioni culturali che lavorano a fianco di esperti delle scienze umane economisti della cultura e ovviamente medici scienziati per rileggere le ricerche e il boost poi c'è stato con la ricerca OMS che abbiamo presentato a Torino due giorni dopo rispetto al sinchi in termini di connessioni per attivare un cantiere di immaginazione sociale perché ritengo che questo sia un punto importante per immaginare tutti insieme come vorremmo dei luoghi della cura non accontentarci di un singolo di un singolo progetto sapendo che ciò che stiamo facendo è un cambiamento culturale ieri abbiamo visto l'ospedale di Zurigo straordinario col verde e tutti i nostri pazienti tutte le persone che abbiamo ascoltato ci hanno chiesto giardini ci hanno chiesto di avere verde nel cuore della città ebbene il blocco è stato risemantizzato attraverso le arti come un giardino risemantizzato è sempre un termine che ieri abbiamo sentito molto i segni i simboli con 3.800 persone coinvolte in 9.000 giornate uomo uno dei progetti sviluppato con un museo come questo così attivo verso la comunità il castello di Rivoli è stato un processo di azioni pittoriche partecipate partite dal personale e dalle loro famiglie ovviamente durante i weekend e poi proseguite con altri soggetti della comunità qui vedete manager in formazione vedete squadre di basket che sono venute a fare team building ancora giovani in alternanza scuola lavoro i medici che dipingono la palestra addirittura pazienti che partecipano visite internazionali il nostro artista Michelangelo Pistoletto che ha portato il caso l'altro giorno in usi con il coinvolgimento dicevo diretto di artisti tanto da costituire una art art collection allora i cui curatori sono il personale i progetti curatoriali che si disegnano si disegnano con il personale si disegnano e si implementano quindi ciò che è intorno risemantizza dal punto di vista visivo il paesaggio ma come ieri ci ha ben detto la Finlandia immediatamente dopo è arrivata la richiesta di una risemantizzazione sonora e quindi è dal personale che si è mossa dagli esiti una richiesta ulteriore di risemantizzazione sonora alla quale come avete visto hanno risposto un numero pazzesco di musicisti della città che sono stati introdotti ovviamente al tema 260 per 600 appuntamenti prima della della pandemia allora accompagnamento alle terapie oncologiche il cambiamento del tempo dell'attesa e poi i libri sempre con una richiesta e poi la medicina narrativa c'è un altro modo per raccontare delle criticità inesprimibili e anche delle potenzialità inesprimibili come il percorso di preservazione della fertilità le poesie sociali nelle stanze il belly painting con l'accademia per aiutare l'arrivo di un fratello in un nucleo familiare il senso della cura con la fotografia newborn il teatro per imparare a lavorare in team allora tutto questo non è la valigia del Bucumpra per essere chiari ma è stata l'esigenza di avere una massa critica di coinvolgimento e di progettualità che si radicassa all'interno non in un reparto non in due reparti ma nell'ospedale come elemento che fosse agente di trasformazione sociale responsabile e che nel contempo ritornando a quanto abbiamo detto stamattina avesse quella forza politica per essere ascoltato all'esterno come elemento determinante per la progettazione dei nuovi ospedali e oltre l'ospedale con i musei è stato concepito un passaporto culturale che viene dato a tutti i bambini ma non solo a Sant'Anna oggi tutte le asle del Piemonte distribuiscono un passaporto culturale per dare il benvenuto alle nuove vite con l'invito a frequentare oltre 40 musei che sono diventati family and kids friendly per accogliere quei newborn di cui ieri si è parlato i primi mille giorni così rilevanti per la produzione delle sinapsi per il nostro sviluppo futuro quindi progetti non destinati a un luogo ma destinati ad essere un simbolo di trasformazione e di cambiamento di una comunità ovviamente questi temi devono andare a permeare la relazione che ha cambiato l'orizzonte visivo sonoro e relazionale perché cambia il paesaggio fisico ma cambia soprattutto il paesaggio relazionale man mano sono stati introdotti in ogni azione nella campagna internazionale che è stata condotta via social network per la salute delle donne per l'empowerment delle donne si è parlato per la prima volta di cultura e poi è arrivato il covid si è fermato tutto no però i nostri ospedali sono ancora così oggi deserti senza familiari risorsa fondamentale con i pazienti nelle sale e nelle ultime settimane sappiamo che la situazione è di nuovo in grande attenzione ma la forza espressa dalla comunità ha consentito in questi ultimi due anni e non solo di finanziare tutto quello che avete visto ieri vi è stato posto grande accento soprattutto sull'ospedale di Zurigo sulla sostenibilità e sulla criticità che ci può essere su questi interventi non compresi all'interno e all'esterno rispetto a delle urgenze che riguardano l'acquisto di strumenti percorsi di ricerca queste processualità chiamiamole pervasive hanno indotto investitori sociali a varare nuove piste di investimento enti della filantropia strategica hanno indotto soggetti a investire per vivere l'esperienza di cambiamento in ospedale e in questi due anni non siamo stati fermi col professor Grossi in digitale abbiamo continuato a lavorare sulla formazione perché l'alta formazione è imprescindibile in questa direzione abbiamo tradotto il famoso rapporto e mi taccio dicendo creato un centro proprio un centro di riflessione raccogliendo i pionieri tra cui anche il professore proprio per un salto di scala nelle politiche oggi con la comunità europea nazioni come questa che da livello locale fanno un appello complessivo nel considerare la cultura non come il nice to have l'elemento rinunciabile nei momenti di crisi ma come l'elemento grande e costitutivo altri soggetti che stanno partendo l'attenzione che ha sviluppato OMS abbiamo materiale per uscire appunto dal singolo progetto e cambiare indirizzo alle nostre azioni come dicevo i progetti di ricerca che oggi vengono varati all'ospedale Sant'Anna includono anche questa dinamica questo elemento questa risorsa in corso proprio partiti in questi due anni un progetto sul metabolismo delle pazienti con carcinoma mammario in attesa di intervento abbiamo sentito parlare stamattina della grande piaga del disagio e della depressione l'arte la cultura inserite all'interno dei progetti di ricerca sono leve straordinarie e io mi taccio ringraziandovi per l'ascolto per passare la parola ad un'attività condotta con attraverso l'emersione per i case studies di questo territorio però dicendo che questa necessità di far emergere ciò che c'è che c'è stato le nostre esperienze appunto embrionali altre suffragate da un rigore fortissimo metodologico altre con parametri biomedicali che compongono un orizzonte quasi pulviscolare vanno rilette come fenomeno ed è quello che stiamo facendo oggi sono partite ricerche altrove che hanno dimostrato che anche le dimensioni dell'Europa del Sud Europa se possiamo assimilare anche la Svizzera al Sud Europa hanno veramente una massa critica di operatività e non soltanto la dimensione anglosassone quella scandinava che sono per noi un faro e sono partite prima ma molte pratiche si sono sviluppate alle nostre latitudini grazie a voi per l'ascolto come sapete tra appunto l'abbiamo detto prima tra gli assi grandi di questo progetto strategico la Call for Case Studies l'abbiamo lanciata un po' tardi forse il 10 di novembre ma la densità della qualità delle proposte pervenute è stata veramente molto molto stimolante come avete vedremo molti di queste progettualità hanno un lungo corso già questa mattina ci hanno parlato di progetti che hanno preso avvio nel 2013 ma forse non sono noti ai più si sono sviluppati in contesti territoriali crescendo anche in termini di parternariati è un altro invito che ci arrivava da Nesta abbiamo visto che è una cifra fondamentale però questa emersione può ulteriormente accrescere la nostra consapevolezza del famoso fenomeno la focalizzazione è stata su due livelli come forse molti sapranno cioè le azioni culturali nei luoghi della cura non solo ospedali ma luoghi della cura nell'accezione più ampia e le azioni invece che si focalizzano sul benessere delle persone su alcuni target specifici all'interno dei luoghi della cultura tre sono i progetti che verranno premiati rispetto a questa call sono progetti che hanno già concluso un loro ciclo ma ne presenteremo cinque perché ci sono due progettualità ancora in corso rigorosissime in termini metodologici che aprono delle prospettive molto promettenti ci sono anche sono anche pervenuti progetti che verranno realizzati in futuro e quindi non avevano le caratteristiche per rientrare in questa nostra discussione ma che rispondono a sfide complesse che necessariamente hanno bisogno di una coin e di un dialogo interdisciplinare io direi che possiamo dare il via alle danze con non c'è una gerarchia nella presentazione primo, secondo, terzo ma è semplicemente in ordine di presenza ma non è un ranking il segno che Patrizia Nalbach che invito qui ha voluto dare con la sua progettualità ecco la musicista non teniamo non teniamo la la mascherina cantante e in che cosa ci ha colpiti innanzitutto la grande sfida che ricorre che è quella dell'invecchiamento attivo invecchiamento e questo è una sfida sociale come abbiamo visto stamani tra le principali ma soprattutto il decadimento che l'allungamento della vita può portare l'insorgere di patologie neurodegenerative e la risposta multidimensionale che si sviluppa attraverso le sollecitazioni visive le sollecitazioni canoro espressive per riattivare chiamiamole le risorse potenziali non amo l'espressione delle risorse residue e con uno sguardo molto forte ai carer che non dobbiamo mai dimenticare perché fanno parte del percorso di cura di gestione della patologia e della relazione io lascerei a lei la presentazione e inviterei poi a seguire gli altri protagonisti innanzitutto complimenti a tutti quanti siamo veramente ammirati buongiorno a tutte e buongiorno a tutti io sono molto lieta di essere qui e ringrazio la città di Lugano la fondazione IPSA per l'opportunità datami di presentare Scintille Scintille è un progetto rivolto a persone con decadimento cognitivo a insorgenza senile comprendenti il morbo d'Alzheimer e altre forme di demenza ma voglio iniziare questa presentazione con una frase di uno scrittore e giornalista Bernard Shaw che dice si usa uno specchio per guardare il viso e si usa l'opera d'arte per guardare la propria anima ed è proprio questo che fa Scintille perché queste patologie hanno delle manifestazioni cliniche i cui sintomi sono la perdita progressiva della memoria il disorientamento temporo-spaziale disturbi del pensiero della percezione della personalità con variazioni improvvise del tono dell'umore disturbi del linguaggio stati ansiosi e depressivi a cui spesso e sovente si associano anche sintomi relativi alla malattia del Parkinson e quindi qui abbiamo i tremori dell'estremità del viso l'irrigidimento facciale gestuale le acinesie quindi movimenti rallentati difficoltosi e qui abbiamo poi anche tutte quelle manifestazioni tipo l'ipersalivazione l'ipersudorazione disturbi della vocalità e anche qui stati depressivi come agisce Scintille e poi soprattutto perché questo nome mi è stato anche posto a questa domanda capirete subito quando io vi dico che la Scintilla è una particella minutissima incandescente che svanisce repentinamente e nello stesso tempo però è la causa determinante di un fatto che provoca il favorire di una sensazione o un fatto potenziale ed è sulla potenzialità di questa particella che Scintille agisce la potenzialità della scintilla di un ricordo di una visione di un'emozione di una parola che emerge e che noi siamo subito lì a cogliere perché questa potenzialità è potente è un gioco di parole ma potenzialità ha in sé la parola potenza e come questo attraverso il canto il movimento abbiamo già visto anche questa mattina dai relatori come questo è importante attraverso l'opera d'arte e vedremo tra poco come ed è in questo modo che sgorga la verità della persona in questo caso i residenti delle case anziani e del personaggio perché perché scintille oltre al canto al movimento utilizza anche la creazione di storie quindi viene creato un personaggio ed è la verità dell'attimo l'attimo presente i malati di alzheimer e demenza vivono nel presente ma che cosa fa la come dire questa potenzialità della scintilla ci permette di accedere alla traccia amnestica io dico sempre è saltato il ponte dell'emisfero sinistro ma noi utilizziamo il ponte dell'emisfero destro per accedere alle tracce amnestiche dell'emisfero sinistro e in questo caso la canzone è potentissima quante volte noi ah non mi ricordo quelle parole poi improvvisamente qualche amico ci canticchia la melodia e ta ecco che arrivano queste parole nasce nel 2014 a Lugano presso gli istituti sociali quindi con la residenza il Castagneto progetto pilota e il museo d'arte di Lugano che ringrazio per aver dato per aver avuto fiducia sia agli istituti sociali perché comunque era una sfida e come nasce nasce in seguito alle mie esperienze sicuramente formative io esordisco professionalmente come docente di ruolo poi studio pedagogia con indirizzo psicologico all'università ho una formazione per l'insegnamento agli audiolesi ai cerebrolesi mentre studiavo al conservatorio canto lirico soprano lavoravo mi specializzavo e poi ho anche fatto volontariato portavo i concerti lirici nelle residenze unendoli a letture sceniche e poesie perché nel frattempo ho anche seguito una formazione no semplicemente era una passione di attrice diciamo così presso la scuola di campo teatrale a Milano e ho visto sul campo qual era la reazione soprattutto al termine di questi concerti come reagivano e qual era lo stato di benessere generale dei residenti allora ho deciso di intraprendere una nuova formazione quella cioè di musica terapia diplomandomi e ottenendo anche il master ed è così che sono venuta a conoscenza di di chi di tre persone allora io dico sempre Bach ha creato il suo stile dopo essere stato tre mesi a Lubecca a sentire Busteude quindi c'è un passaggio di testimone tra tutti noi tra chi ha stato un precursore una precorritrice un passaggio di testimone a noi e altri che spero miglioreranno quello che noi stiamo facendo adesso e sono Jim Cohen Ann Vesting e Paolo Cattaneo probabilmente avrete già sentito parlare di Jim Cohen questo psichiatra statunitense che è proprio stato un pioniere che ha detto ma insomma le arti influiscono positivamente sulla salute e sul benessere quindi diamoci da fare studiamo un po' di più questo e poi naturalmente tutti i neuroscienziati che fortunatamente erano anche artisti perché suonavano uno strumento o avevano una passione per la pittura la scultura e si sono posti la domanda ma come funziona il mio cervello mentre io suono la mano il violino il pianoforte ma che cosa succede nel mio cervello ed è così che è partito tutto e poi chiaramente Ann Vesting con il suo metodo time slips che vuol dire non che dorme ma che scorre il tempo che scorre è partito attraverso le immagini ponendo delle immagini delle fotografie davanti alle persone con malati d'Alzheimer e quindi suscitando in loro come dire un'evocazione che cosa vi fa venire in mente questa immagine e quindi non utilizzando più la logica ma la fantasia e l'immaginazione e poi si è esteso anche ai musei quindi pensiamo al MoMA di New York in Italia Palazzo Strozzi e noi qui a Lugano poi vedremo anche che cosa e Paolo Cattaneo con la metodologia fenomenologico relazionale un parolone ma per dire una cosa molto semplice non si costruisce nulla se non c'è una relazione ma niente né un docente con l'allievo né un musicista con il suo allievo né tra musicisti tra persone l'humus il substrato e la relazione per creare che cosa? la situazione di benessere perché altrimenti ci irrigidiamo non costruiamo nulla è muro contro muro costruita questa base cosa utilizziamo? le dinamiche tensio-distensionali la nostra vita in ritmo circadiano tensione-distensione domanda-risposta ispirazione-espirazione su queste dinamiche ecco che allora noi agiamo perché il nostro cervello ha bisogno di una risoluzione e questo sia a livello linguistico che a livello musicale sloboda nella mente musicale ne parla e il linguaggio diciamo dal punto di vista del linguaggio verbale Chomsky la frase minima la mamma mangia va bene ma ci viene subito da domandare che cosa? la mela e se io canto la 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 voi rispondete la 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 vedete? non ho manco dovuto suggerirvelo e quindi dal punto di vista musicale tonica poi abbiamo il quinto grado si torna la tonica poi ci sono tutte le altre le altre sequenze che vanno poi a esplorare delle sensazioni ma non vogliamo entrare adesso nel merito l'opera d'arte perché noi quando ci poniamo di fronte a un'opera d'arte immaginiamo automaticamente una storia nei dipinti i pennelli i collanti i pigmenti danno la matericità di quest'opera d'arte che ci trasmette qualcosa ed è molto più potente di una semplice immagine o di una fotografia c'è l'odore e poi nel museo c'è anche il suono diverso ci sono persone che si muovono attorno c'è la scolaresca che si ferma a vedere i malati d'Alzheimer c'è il malato d'Alzheimer che si alza e va dal ragazzino dal bambino o gli adolescenti che sorridono ma che poi dopo quando sentono questa particolarità cambiano subito atteggiamento quindi anche un'interazione sociale fargli uscire dalle case anziani e anche le sculture con le loro volumetrie i materiali quanto cambia una storia a seconda che il materiale sia di legno o sia di pietra e lo si tocchi quando abbiamo la possibilità la tridimensionalità quindi l'opera d'arte ha una presenza fisica che è scritto rappresenta almeno la metà della loro qualità visiva perché è molto importante quindi unisce all'arte visiva la forza della musica e la canzone e perché la canzone? Innanzitutto ognuno di noi ha un proprio bagaglio di canzoni che si porta dalle filastrocche materne ai canti delle scuole alla gioventù no? ce l'abbiamo è un nostro bagaglio quindi noi andiamo a usare quel bagaglio non gli canterò mai un raga indiano no? un raga indiano il canto poi tempera ansia e paura facilita le attività cognitive e va a agire sui neurotrasmettitori come la serotonina la dopamina con molteplici effetti positivi come vi dicevo peraltro certificati e documentati dalle neuroscienze quindi si fondono alla melodia all'armonia e si parla di armolodia perché? perché la melodia è la parte psicologica possiamo dire la madre la melodia quando si perde la melodia si è perso veramente anche a livello cognitivo tantissimo per cui se un malato è una persona un residente ha un buon livello melodico vuol dire che allora non è completamente compromesso e la melodia stimola l'armonia l'armonia che questa unione di due o più suoni è la parte razionale logica quella che indica la strada anche alla melodia perché se noi abbiamo una settima di dominante una settima di diminuita ecco che cambia l'atmosfera siamo noi che decidiamo e quindi se un gruppo di anziani è da stimolare noi useremo un determinato tipo anche di brano o di accompagnamento se invece è da calmare agiremo in modo diverso quindi la cosa importante è il benessere innanzitutto l'ascolto che non è l'ascolto fisiologico sento ma non comprendo è un ascolto più emozionale ma non l'emozionale distintuale c'è che coinvolge l'emozione e coinvolge anche l'aspetto cognitivo e l'espressione verbale non verbale perché sappiamo tutti che il non verbale è importantissimo la finalità di scintille e non ripeterò finirò mai di ripeterlo il benessere della persona e soprattutto favorire un modello diverso di cura attraverso le arti promuovere l'interazione tra le realtà culturali vari musei e sociali quindi non solamente le residenze per anziani ma anche la comunità che si rende si renda conto che c'è questa grande potenzialità e attivare sinergie quindi che migliorino la comunicazione e la collaborazione l'obiettivo allora finalità grandi finalità ma l'obiettivo più medio termine qual è? proporre un'interazione l'immaginazione la fantasia come vi dicevo già comunicare senza giudizio non ci sono risposte giuste non ci sono risposte sbagliate e poi di incontrare naturalmente altre persone incoraggiandoli utilizzando altre modalità perché ci sono anche persone residenti che non hanno più l'uso della parola ma si esprimono a gesti quindi io mi faccio interprete di quello che loro vogliono dire e questo e questo e questo e dice sì oppure no a gesti dando loro dignità un ruolo sociale che ormai è andato perduto e la possibilità di comprendere il loro mondo perché loro capiscono se in quel momento io sono lì per loro e ascolto visto che sono nell'attimo si rendono conto se io li ascolto veramente se la persona vicina li sta deridendo e certe volte ci sono dei veri propri batti vecchi anche perché insomma anche questo fa parte quindi ci si pone davanti a un'opera d'arte si incomincia a immaginare a verbalizzare a raccontare una storia e a cantare i brani tante volte le canzoni nascono proprio da loro e come naturalmente gli stimoli visivi sonori musicali la vocalità a tutto campo anche il grido ebbene sì gridiamo anche nel museo ormai all'AC lo sanno che quando siamo può succedere di tutto l'improvvisazione l'invenzione le domande aperte non c'è mai una domanda chiusa sia a livello verbale che a livello musicale perché deve essere uno stimolo e anche qua a secondo del disturbo fisiologico e fisico la segmentazione e la dilattazione del tempo ta oppure ti 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 no a scelta la ripetizione la trascrizione la titolazione importante perché loro danno un titolo alle storie ed è incredibile quanto 90% se non addirittura 99 colgono il punto il nucleo di quel quadro e poi vi darò degli esempi concordanze e dissonanze e quindi un viaggio nelle vibrazioni dell'opera d'arte ma anche un viaggio nel mondo interno e qui ormai non sto a dirlo perché sapete che cos'è una vibrazione ed è talmente fine e sottile che è una vibrazione psichica in realtà che mette a nudo quello che c'è all'interno di ognuno di noi la visione in fondo si ha una visione di fronte a queste opere d'arte e noi quindi seguiamo questa visione che è associata al sentire quindi anche al senso che cosa vuole dire l'anziano in quel momento qual è il concetto l'emozione alcune volte sono eccitati alcune volte sono turbati no e tutto questo torniamo anche se c'è smemoratezza disorientamento parole malate noi agiamo per il benessere in quel momento ascoltando le parole ancora vive accettando e loro lo sentono empaticamente e parlando lentamente pacatamente lo sguardo sempre negli occhi valorizzando quello che dicono e naturalmente la prosodia del parlato che indica c'è l'intonazione il volume la durata la cinesica i gesti del volto del corpo e la prosemica quanto sto distante io da loro quanto loro stanno distanti da me o da loro stessi o dall'opera d'arte e gli effetti sono questi naturalmente non solamente un movimento rilassamento a livello fisico la socializzazione si divertono sono contenti gratificati di quest'uscita magari non si ricordano il nome mio o del luogo ma la volta e dopo ah ma noi ci siamo già visti ah ma qui ci siamo già stati un sostegno e la proiezione noi sappiamo cos'è la proiezione noi diamo all'infuori a qualcun altro un aspetto che ci disturba e nelle storie questo emerge nasce il 7 gennaio del 2014 al museo d'arte di Lugano e ringrazio appunto il servizio di mediazione LAC e Mase di Lugano con gli istituti sociali con il canto dell'aurora di Luigi Rossi e sapete che titolo hanno dato? il canto del grido quindi il grido non è più quello di Munch ma è un canto oggi Scintille ha stretto dei partenariati non solamente col Masilac ma col museo d'arte di Mendrisio la Pinacoteca Zius di Rancate la fondazione giudici di Lugano e privata la Braglia di Lugano la casa museo Luigi Rossi di Tesserete anche essa privata la galleria Canesso museo Villapiglia e due gallerie private di collezionisti la Fag Gallery e l'Art Trust di Melano questi sono alcuni esempi e domani l'intento è un progetto intergenerazionale con i giovani perché i giovani che sono anche la fascia più diciamo lasciata della vita perché i bambini si fa tanto ma gli adolescenti sono problematici che si fa per loro e quindi c'è un progetto di cui ora non vi parlerò non svelerò ma in costruzione per concludere alcuni esempi Angelo Ribelle su sfondo blu di Osvaldo Licini il gallo che vuole volare ritratto di Meret Oppenheim davanti allo specchio di René Zurkinden la maschera Ganesha Musa Pasqualino Marajà qui è venuta fuori subito la canzone Pasqualino Marajà non so se magari qualcuno e subito è stato Pasqualino Stanze e distanze di Adriana Veretta Mistero Madonna con bambino di Gianluigi Giudici Canto d'amore La fama l'orange la fama la pomme di Pablo Picasso il coraggio di essere liberi malati d'Alzheimer quindi le sonorità il canto l'empatia i sentimenti il movimento cogliere questo attimo con tutta questa metodologia io dico compagni e guida per imparare a leggere lo spartito di queste persone che poi anche imparare a vivere a leggere il nostro Hopper De Chirico Pittori Einstein cosa hanno detto non c'è nulla che possa combattere l'immaginazione che ovunque la logica è solo un intralcio si potrà solamente una volta rotta queste barriere entrare nel regno delle visioni e dei sogni dell'infanzia e che cosa ricordano i malati d'Alzheimer meglio di tutto l'infanzia la mamma soprattutto e quindi vi saluto con le immagini con i nostri partner ringrazio ancora il Mase di Lugano che è qui per aver creduto dall'inizio così come gli istituti sociali la collezione Olgiati la Pinacoteca Zucht la fondazione Braglia la Casa Museo Luigi Rossi il Museo Villa Pia la Galleria Canesso l'Art Trust di Melano e la Five Gallery di Lugano con gli ospiti che salutano quando vecchie parole muoiono sulla lingua nuove melodie scaturiscono dal cuore ed è questo la melodia che noi cerchiamo di preservare perché se c'è ancora la melodia c'è ancora la capacità cognitiva ed è questo quindi io vi ringrazio dell'attenzione e basta grazie grazie a lei per questa presentazione aggiungiamo soltanto un commento sulla osservazione il progetto è stato corredato proprio una battuta da una griglia osservazionale con una pluralità di item che vengono monitorati durante il processo non l'ho inserita per non tediare il pubblico perché era troppo specialistica c'è una scheda di osservazione di entrate e di uscita per ogni incontro e poi c'è una scheda anzi ci sono due schede di valutazione la prima diciamo così più espressiva e poi quella decimologica che più che ci semplifica diciamo proprio il monitoraggio della valutazione sono griglie diciamo più specialistiche che in un primo momento avevo inserito ma poi ho eliminato ma a chi interessano forse le griglie non lo so poi il tempo è quello che è grazie grazie di cuore e anche per questa generatività progetti che cambiano la cultura delle istituzioni culturali perché ogni ingresso determina poi un'osmosi anche delle domande sull'impatto che l'istituzione culturale produce grazie io inviterei il secondo il dottor Paolo Paolo Antoni che rappresenta un gruppo di progetto straordinario devo dire allora abbiamo la divisione ricerca del conservatorio della Svizzera italiana ma insieme ad uno sguardo londinese Royal College of Music un dialogo con la facoltà di medicina sempre a Londra e quindi interazione continua tra ambiti disciplinari e un altro centro di competenze presente a Lugano che è il centro di competenze anziani di SUPSI quindi avere dimenticavo l'università di Padova che fa parte di questo gruppo di progetto ciò che colpisce immediatamente è appunto l'interazione non così scontata tra mondi disciplinari diversi che vanno a creare anche un inedito questa mattina è stato posto il quesito sulle modalità di valutazione su visioni modalità di osservazione protocolli che non sono sostanzialmente biomedicali e a volte complessi da tradurre eccetto gli effetti di breve su cambiamenti culturali che vanno osservati in un periodo più longitudinale ma voi avete fatto questo sforzo e l'ultima considerazione è osservare l'effetto sulla popolazione ma osservare anche l'effetto sugli artisti e direi questa è un'altra peculiarità e la lascio a questa illustrazione grazie e complimenti grazie per questa bellissima introduzione buon pomeriggio a tutti sono contentissimo di avere la possibilità di presentare il mio lavoro in questo forum sono musicista contrabassista ricercatore e il mio campo di ricerca è nella community music in particolare cerco di creare delle attività che possano facilitare l'accesso alla musica da parte della popolazione anziana oggi sono a parlarvi di un progetto particolarmente importante che è anche la base del mio dottorato di ricerca che sto appunto concludendo e come potete vedere abbiamo coinvolto due categorie ben precise i residenti delle case per anziani e gli studenti del conservatorio in pratica abbiamo sviluppato un programma di dieci settimane dove i residenti hanno potuto fare musica concretamente insieme ai nostri studenti questo è stato possibile cantando insieme a loro oppure utilizzando degli strumenti a percussione che abbiamo scelto in base a determinati criteri abbiamo considerato le probabili compromissioni motorie dei residenti e quindi incluso tutta una serie di strumenti molto leggeri utilizzabili anche con una sola mano per esempio e abbiamo anche considerato il volume sonoro che doveva essere contenuto per non dare fastidio per non disturbare le altre persone presenti in struttura il repertorio che abbiamo proposto in queste dieci settimane come potete vedere è stato molto variegato abbiamo offerto una sorta di buffet se posso usare questo termine cercando di abbracciare tanti gusti diversi tante curiosità diverse e nell'arco di ogni sessione c'è sempre stato lo spazio anche per ascoltare un po' di musica suonata dagli studenti con i propri strumenti il progetto Art for Age su cui appunto ho basato il mio dottorato è stato svolto in collaborazione con quattro strutture del nostro territorio dell'area luganese e come vi dicevo sono stati coinvolti anche nove studenti questi studenti hanno preso parte al progetto semplicemente iscrivendosi ad un seminario universitario facoltativo promosso dalla scuola universitaria di musica e sviluppato dalla divisione ricerca e sviluppo questo seminario ha quindi preparato gli studenti in qualche modo ed è stata offerta una formazione in qualche modo multidisciplinare nel senso che ovviamente c'è stata una docente del conservatorio di musica che ha avuto la responsabilità di ideare programmare e condurre le sessioni musicali ma i nostri studenti sono entrati a contatto anche con docenti di altre aree che li hanno preparati a muoversi in maniera appropriata in un contesto complesso come quello delle case per anziani la partnership che è stata già anticipata ha visto come protagonisti la divisione ricerca presso cui lavoro il centro competenze anziani della SUPSI e il Royal College of Music di Londra che è l'istituzione presso cui sto facendo il mio dottorato si parlava di università di Padova perché uno dei miei supervisori proviene appunto da quella istituzione parlando appunto del mio progetto della mia ricerca posso riassumerla in due grandi domande in due grandi punti ho cercato scusatemi ho cercato di comprendere quale sia stato il significato di questa esperienza di questo incontro dando veramente voce ai partecipanti quindi ho utilizzato delle interviste e ho cercato un po' di ricostruire l'esperienza e di capire come sia studenti che residenti hanno vissuto il proprio incontro in questo contesto particolare con questa attività particolare in secondo luogo sulla base di una letteratura estremamente incoraggiante che è stata ampiamente discussa in questi giorni rispetto al potenziale della musica in termini di salute e benessere e tanti altri effetti positivi ho cercato di capire cosa i partecipanti hanno percepito come effetto da questa attività e questa domanda l'ho declinata appunto in termini di salute e benessere sono concetti molto complessi siamo qui anche per riflettere sulla complessità di questi concetti e sul mio studio sono partito per il concetto di salute dalla definizione conosciutissima dell'OMS del 1948 che è stata citata più volte anche in questo forum mentre invece per quanto riguarda il benessere sono partito dalla psicologia positiva e ho considerato in particolare il permamodel di Seligman è un modello che si basa su cinque dimensioni ve le descrivo molto velocemente abbiamo emozioni positive quelle che tutti vogliamo e vorremmo provare come gioia serenità felicità allegria e quant'altro engagement che sta per coinvolgimento quello stato che mi fa sentire completamente assorbito da quello che sto facendo che mi fa dimenticare del tempo che passa la terza dimensione si riferisce ovviamente alle relazioni interpersonali che devono essere di qualità che devono essere appaganti in qualche modo andando avanti abbiamo meaning che sta per significato quindi la sensazione che ciò che faccio ha un valore ha un significato che va al di là del presente va al di là del mio magari godimento istantaneo momentaneo e l'ultima dimensione che si riferisce a quella sensazione di conquista in qualche maniera la sensazione che provo quando imparo quando miglioro o quando comunque ho la percezione che posso migliorare che sono nelle condizioni di avviare e concludere un percorso nel mio studio appunto io ho considerato entrambe le popolazioni quella degli studenti e quella degli anziani nei nostri programmi abbiamo coinvolto oltre 90 residenti ma per motivi metodologici e pratici io ho limitato questa mia ricerca a 22 persone che sono state selezionate dalle strutture che hanno collaborato con noi sulla base della loro capacità in termini cognitivi di partecipare ad un'intervista e sulla base di aver frequentato almeno 8 delle 10 sessioni previste il tempo per discutere in dettaglio i risultati chiaramente non è sufficiente e ho preparato un piccolo schema che mi aiuterà a raccontarli per sommi capi è emerso da queste interviste che l'effetto è stato positivo e c'è stata una nettissima predominanza di emozioni positive queste emozioni sembrano essere dovute questi effetti positivi sembrano essere dovuti a tre elementi in particolare scusatemi il fatto che la musica è considerata qualcosa di importante dai residenti qualcosa che va molto al di là di un semplice passatempo qualcosa che può mantenere vivo e regame con la propria biografia e con i propri ricordi e quindi avere la possibilità di accedere alla musica e di fare un'esperienza del genere è stato visto come qualcosa di molto prezioso in secondo luogo il programma ha rappresentato tutta una serie di opportunità di apprendimento per i residenti che possono essere declinate nei termini di appunto cantare un po' meglio avere un senso del ritmo migliore o appunto conoscere repertori conoscere generi musicali che per qualche motivo non è stato possibile approcciare nelle fasi precedenti della vita inoltre il programma ha effettivamente favorito le relazioni personali sia tra il residente e gli altri residenti sia appunto tra il residente e queste nuove figure che entravano in struttura che si prendevano cura di loro che sono appunto gli studenti questo quadro sembra poi essere particolarmente rilevante se andiamo a considerare la realtà della vita quotidiana come c'è stata un po' descritta nelle interviste nel senso che i residenti hanno riferito di provare in certi momenti in certe giornate delle sensazioni di solitudine e di isolamento che sono state contrastate da questo appuntamento settimanale altri residenti nelle interviste mi dicevano sento che la testa non sempre c'è mi rendo conto che non ho più la lucidità di una volta e fare questa avventura a fare questo viaggio è stato molto pagante è stato molto coinvolgente e altri residenti hanno invece riferito l'apprezzamento per degli stimoli a livello di fantasia e immaginazione soprattutto che molto spesso vengono visti come qualcosa che manca nella loro quotidianità questo schema è appunto uno schema appunto riassunto vorrei condividere con voi alcuni stracci delle interviste per guardare un pochino più in dettaglio quella che appunto è stata l'esperienza dei residenti a proposito del ruolo della musica la signora Giuseppina in questa riflessione ci fa capire che sia l'ascolto che il canto hanno un effetto immediato a livello di energia a livello di vitalità fa in qualche modo sentire più giovani la musica Gabriella invece ha 95 anni sottolinea come l'ascolto della musica può essere un'abitudine che è presente ancora nel quotidiano anche in questa fascia di età e in qualche modo la musica continua ad accompagnare laddove altre attività evidentemente come la lettura in questo caso possono diventare impossibili o veramente molto difficili per quanto riguarda le opportunità di apprendimento Luciana racconta di come questa esperienza all'inizio non era neanche tanto chiara se vogliamo rispetto alle sue finalità un po' si scherza un po' si ride ci si diverte però poi settimana dopo settimana lei ha percepito su se stessa tutta una serie appunto di miglioramenti rispetto alla capacità di cantare e alla capacità di accompagnare a tempo la musica suonata dagli studenti Marcello invece ci fa riflettere sulla scoperta di nuovi repertori e mi sembra molto importante sottolineare questo tema perché da un lato lo abbiamo appena visto l'importanza cruciale di portare musica familiare musica importante all'interno delle case per anziani importante per la biografia delle persone ma al tempo stesso questi risultati e altra letteratura a fine ci invita a riflettere sull'eterogeneità della popolazione anziana sul diverso profilo culturale sul diverso bagaglio musicale anche dei residenti e quindi sull'importanza di offrire una molteplicità di generi e la possibilità appunto di scoprire anche musica nuova passando alle relazioni interpersonali Carmela sottolinea che trovarsi a fare questa esperienza settimana dopo settimana offre anche spunti di conversazione tra residenti e poi ha anche fatto questa riflessione che abbiamo trovato molto affascinante questa idea che appunto si può creare una complicità del suono che ci aiuta a conoscerci meglio in qualche modo Angela invece sposta l'attenzione sulla presenza sul ruolo degli studenti e su come appunto al di là della musica fatta bene della musica interessante c'è stato veramente una condivisione c'è stato uno spazio comune e un momento d'incontro passo adesso appunto velocemente a parlarvi dei risultati relativi agli studenti ciò che è emerso dalle loro intervise e dai loro diari perché nel caso degli studenti ho anche chiesto di redigere un diario sessione dopo sessione è che c'è stato un grossissimo apprezzamento sul valore innovativo e umanitario di questo programma innovativo nei termini di appunto una formazione che secondo loro manca e che secondo loro è rilevante offrire e umanitario nel senso che per molti ragazzi la componente appunto di restituire qualcosa alla società attraverso le proprie competenze è una componente importante che appunto è stata offerta attraverso questo seminario ci sono anche state ripercussioni sulla loro sfera personale e professionale rispetto a quella professionale questo progetto appunto questa esperienza ha offerto delle idee degli spunti di riflessione su nuove prospettive professionali ha offerto la possibilità di acquisire competenze musicali importanti e anche invitato a mettere in discussione per alcuni studenti il perfezionismo che è un aspetto da non sottovalutare all'interno delle accademie di musica dei conservatori perché a sua volta può avere ripercussioni pesanti su dimensioni del benessere provocando ansia da parcoscenico provocando stress insonnia isolamento e altro rispetto alla sfera personale gli studenti hanno riportato dei benefici a livello psicologico e fisico come possiamo vedere percezione di minor malessere o dolore laddove presente senso di energia gratificazione e anche per quanto riguarda anche gli studenti un momento di insegnamento un momento di arricchimento derivante dall'incontro con i residenti mi piacerebbe dedicare poco tempo agli studenti e mi limiterò appunto a due frasi che ci fanno vedere un po' più da vicino l'impatto sulla sfera personale in questo caso Elisabetta ci racconta di una settimana difficile con uno stato di febbre attalenante una mattina difficile quella della sessione e appunto emerge come il coinvolgimento in questo lavoro il sentirsi assorbita e vedere l'attenzione l'apprezzamento il coinvolgimento dei residenti in qualche modo l'ha fatta arrivare alla fine della sessione con un senso di benessere sia a livello fisico che a livello mentale per quanto riguarda invece le relazioni con i residenti Corinna sottolinea il fatto che non hanno imparato qualcosa gli studenti soltanto dal nostro seminario ma che anche appunto l'incontro con persone considerate ricchissime dal punto di vista dell'esperienza di vita e del capitale umano ha offerto degli insegnamenti preziosi che vanno al di là della professione diciamo che questa mia ricerca ha avuto diverse ricadute anche immediate perché i risultati che vi sto descrivendo mentre li analizzavamo mentre li elaboravo mi hanno messo nelle condizioni di sviluppare un altro programma per le case anziani coinvolgendo comunque gli studenti e continuando a formarli sempre in collaborazione con il centro competenze anziani questo progetto si chiama musica e parole in questo caso è un singolo studente o studentessa protagonista il focus è sull'ascolto della musica e in poche parole abbiamo la possibilità di ascoltare musica suonata dal vivo e ci sono degli spazi per le domande ci sono degli spazi in cui chi vuole può condividere delle emozioni può condividere dei ricordi suscitati dalla musica e in questa maniera si crea uno spazio di ascolto un accesso in più alla musica e anche uno spazio di condivisione e di scambio questo progetto appunto è partito nel 2018 e ha riscontrato in pochissimi mesi un grandissimo interesse perché come potete vedere sono riuscito a portarlo a realizzarlo in diverse strutture che sono dislocate un po' in tutte le aree della nostra regione chiaramente se parlo di un progetto partito nel 2018 sappiamo cosa è successo nel 2020 lo scoppio della pandemia ha rappresentato un ostacolo enorme per lo sviluppo di questa attività ma sono molto contento di raccontare che siamo riusciti ad andare avanti con due strutture in particolare sfruttando le risorse online in questo caso siamo nel pieno della prima pandemia e un piccolo gruppo di residenti ha ricevuto un tablet e quindi stando isolati nella propria stanza i residenti sono conquistati raggiunti dalla musica e dai nostri dialoghi dal nostro discorso sulla musica in quest'altro caso mesi dopo con restrizioni meno rigide è stato possibile utilizzare la sala comune della struttura anche in un momento in cui il personale esterno non poteva entrare per motivi sanitari se volete saperne di più mi avvio alla conclusione della mia presentazione vi invito a considerare queste pubblicazioni che sono disponibili online che sono open access come dicono i tecnici in cui appunto potete leggere potete andare un po' nel profondo di questi studi e mi piacerebbe chiudere la mia presentazione usando parole di altre persone mi piacerebbe tornare a cedere la parola ai partecipanti di questa ricerca la signora Marcella ha 86 anni con questa riflessione sembra un po' cogliere uno degli aspetti forti della nostra riflessione in questi due giorni perché veramente l'arte è qualcosa di necessario non possiamo fare a meno di avere un rapporto con l'arte e quindi con la musica passiamo la parola ad una giovanissima chitarrista del conservatorio che parlando di questo seminario parla di un'esperienza che in qualche modo ha provocato ha risvegliato e in qualche maniera si è ritrovata a recuperare quello che per lei è il senso principale del fare musica mi viene in mente un po' una riflessione che è stata fatta anche stamattina risposta ad una domanda rispetto al fatto che appunto anche per i musicisti può essere molto importante avere questo tipo di rapporto con il proprio pubblico con i propri destinatari la presentazione finisce qui e vi ringrazio per l'attenzione grazie abbiamo detto che è un rapporto trasformativo con le diverse istituzioni coinvolte ma lo è anche rispetto ai singoli soggetti vi avevo citato nella presentazione precedente il coinvolgimento di un numero rilevantissimo di musicisti che in un'osservazione longitudinale hanno cambiato completamente il modo di darsi la loro interpretazione perché il rapporto diretto con il paziente oncologico il paziente in attesa il paziente in una struttura che non è quella di una sala da concerto pone delle domande di senso e eudaimonia come ci dice spesso il professor Grosso cioè ricerca di senso per chi ascolta e per chi pratica l'azione ed è benessere scambio di benessere quindi fioritura flourishing e eudaimonia grazie 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 a voi e auguri per il suo futuro grazie mille certamente che abbiamo di fronte progetti che possono avere una scalabilità anche oltre il target di riferimento la musica che cambia gli orizzonti e pensiamo a quante ferite invisibili la pandemia ha generato e come queste lezioni apprese possono essere declinate anche su altri target ma affrontiamo un altro tema complesso sfidante come la relazione con il paziente oncologico o il paziente con dolori cronici io chiamo qui con noi Roberta Pedrinis complimentandomi da parte del gruppo di progetto una formazione d'AMS e poi lo sbarco sull'arte terapia la scelta di cooperare con la clinica di reabilitazione cantonale in momenti in cui la ricerca di senso la consapevolezza della propria malattia e la consapevolezza delle potenzialità sia di resilienza e di recupero per accompagnare percorsi di gestione biomedicali è fondamentale il concorso del paziente il concorso della famiglia il concorso dei carer a lei la parola e poi commenteremo grazie grazie buongiorno a tutti un sentito grazie alla città di Lugano e a Ipsa per l'organizzazione e la promozione di questa iniziativa sono veramente molto contenta di avere l'opportunità di presentare un progetto di arte terapia svolto nel campo della riabilitazione del paziente oncologico il progetto pilota è stato realizzato presso la clinica riabilitativa di Novaggio dell'ente ospedaliero cantonale grazie a un contributo incondizionato della ditta Elsinel Care oltre a sponsorizzazione è stato necessario un grande lavoro di coordinamento e di collaborazione che ha coinvolto i diversi ruoli dell'istituzione dalla direzione amministrativa a quella medica fino al team composto dai vari professionisti della salute che qui ringrazio non potendoli nominare tutti apertamente la realizzazione del progetto ha richiesto due anni per la sua preparazione due anni per la sua implementazione sul terreno e infine quasi un anno per la raccolta l'elaborazione dei dati e per l'analisi e lo studio dei risultati oggi pensiamo alla sua divulgazione la ricerca scientifica internazionale mostra che l'arte terapia può essere considerata un valido strumento per pazienti che soffrono di una malattia che implica un lungo periodo di trattamento con conseguenze stress come nel caso del cancro o nel caso di pazienti che soffrono di dolori cronici di origine multifattoriale le prime ricerche svolte negli anni 80 riguardavano soprattutto la musicoterapia in ambito psico-oncologico dagli anni 90 appaiono le prime ricerche con le arti plastiche e dal 2000 compare anche la ricerca riguardante la danza terapia durante gli ultimi dieci anni le ricerche si sono diversificate anche rispetto ai pubblici di riferimento applicazioni dell'arte terapia sono state studiate in oncopediatria per i pazienti in isolamento durante il periodo di trattamento chemio e radioterapico coi pazienti in riabilitazione nelle cure palliative ed anche come sostegno al personale curante le prime ricerche erano soprattutto empiriche e descrittive da allora il numero delle ricerche ha aumentato in maniera esponenziale adottando una metodologia sempre più scientifica e rigorosa combinando l'approccio qualitativo con quello qualitativo l'ipotesi che abbiamo assunto per la nostra struttura è che l'arte terapia possa svolgere un ruolo importante nel contesto riabilitativo attivando le risorse interne del paziente grazie allo sviluppo dell'immaginario e della creatività l'arte terapia permette di riconnettersi con le proprie forze dimenticate mobilitando delle risorse autocurative autogenerative per affrontare in maniera più consapevole e responsabile il proprio percorso di cura e per meglio rispondere all'iter medico scientifico l'arte terapia permetterebbe un'elaborazione simbolica della storia della propria vita il progetto pilota è stato applicato a due popolazioni cliniche gli utenti con patologie oncologiche e gli utenti affetti da dolore cronico sono stati coinvolti in totale 170 pazienti 102 per il percorso oncologico e 68 per il percorso del dolore cronico il percorso riabilitativo tradizionale prevede il servizio medico ed infermieristico il servizio psichiatrico e psicologico fisioterapia ed ergoterapia l'assistenza sociale ed infine la consultazione dietetica con il nostro progetto il pacchetto riabilitativo tradizionale è stato implementato con un nuovo strumento terapeutico l'arte terapia il dispositivo prevedeva incontri di gruppo di due ore due volte per settimana i mediatori utilizzati erano la pittura ed il collage il tema era libero il gruppo aperto questo per favorire un numero massimo di incontri per paziente in funzione delle entrate e dell'uscita dalla clinica la durata media era di 5-6 incontri per partecipante con un minimo di 3 ed un massimo di 8 incontri la partecipazione era volontaria e questo è importante dirlo lo vedremo poi alla fine l'obiettivo degli incontri di arte terapia è quello di offrire uno spazio protetto all'interno del quale poter dar forma ai propri vissuti affettivi emotivi che difficilmente trovano parole di attivare la creatività la sensorialità e di favorire la verbalizzazione del vissuto del paziente e dei cambiamenti che emergono la sessione di arte terapia prevede un momento di accoglienza e di preparazione al lavoro un momento di lavoro individuale svolto in silenzio e infine un momento di parola durante il quale si osservano le immagini prodotte si verbalizzano i propri vissuti lavorando anche sulle dinamiche che emergono all'interno del gruppo nell'interazione tra i partecipanti è importante dire che per frequentare un atelier di arte terapia non sono richieste conoscenze tecniche particolari ognuno può esprimersi liberamente secondo il proprio grado di capacità ed escludendo qualsiasi obiettivo di ordine estetico la valutazione del progetto è stata realizzata con due modalità in primis attraverso un questionario di autovalutazione con domande chiuse e domande aperte sottoposte direttamente al paziente per sondare la sua esperienza soggettiva in secondo luogo analizzando retrospettivamente il set di dati che viene raccolto dalla struttura per l'associazione nazionale svizzera per lo sviluppo della qualità presso cliniche ed ospedali sono stati confrontati gli indicatori clinici standardizzati all'entrata e all'uscita tra i pazienti che hanno seguito il percorso di arte terapia e i pazienti che non hanno partecipato questi dati sono stati combinati con la percezione degli utenti sull'efficacia dell'arte terapia misurata con l'apposito questionario di autovalutazione qui vediamo il questionario strutturato con domande aperte domande chiuse dove viene richiesto al paziente di esprimersi direttamente la terza domanda era composta da 12 items in cui il paziente poteva rispondere con un punteggio da 0 uguale nessun miglioramento a 5 grande miglioramento le domande miravano a sondare le tre aree comunicative relazionali e di sviluppo della persona i risultati ecco vediamo adesso per il percorso oncologico i risultati mostrano che i soggetti che hanno partecipato ai gruppi di arte terapia presentano al momento della dimissione un maggior miglioramento delle funzioni motorie come ad esempio lavarsi vestirsi la cura personale la locomozione salire le scale eccetera rispetto al gruppo di controllo anche sul piano delle funzioni cognitive come la memoria aspetti di comunicazione di relazione o problem solving sono stati rilevati dei miglioramenti maggiori per chi ha frequentato l'arte terapia rispetto al gruppo di controllo ecco in questo grafico possiamo individuare gli indicatori di efficacia della riabilitazione dal punto di vista motorio la colonnina in blu e cognitivo le colonnine in arancione la differenza è statisticamente significativa per quel che riguarda il miglioramento del funzionamento motorio mentre il risultato ottenuto sul piano del miglioramento cognitivo è positivo ma andrebbe verificato ulteriormente con altri questionari più idonei per misurare fattori quale per esempio le strategie di coping l'ansia l'ansia di morte lo stress la resilienza la depressione e la qualità generale della vita il miglior rendimento sul piano motorio potrebbe essere spiegato considerando il fatto che l'arteterapia stimola la motivazione e la fiducia nelle proprie risorse e potenzialità rispetto al percorso di cura in sintesi i partecipanti che eseguono arteterapia percepiscono benefici positivi in un tempo relativamente breve inoltre una volta fatta la scelta di partecipare al gruppo di arteterapia nessun paziente ha presentato problemi durante le sessioni e questo indipendentemente dall'età dal sesso o dalla gravità delle condizioni cliniche per questi motivi l'arteterapia sembrerebbe uno strumento particolarmente adatto al contesto riabilitativo dove gli interventi durano da tre o quattro settimane e le popolazioni cliniche sono molto etereogenee risultati interessanti sono stati riscontrati anche rispetto al questionario valutativo rivolto ai partecipanti a livello globale i pazienti hanno percepito che l'arteterapia sarebbe uno strumento utile nel contesto della riabilitazione oncologica riconoscendone i benefici circa il 90% dichiara di aver percepito miglioramenti nelle capacità di comunicazione e questo in quanto l'arteterapia funziona come mezzo per simbolizzare aspetti del proprio vissuto difficili da verbalizzare questo grazie all'utilizzo di un linguaggio sensibile fatto di forme e di colori il 100% dei partecipanti riconosce uno sviluppo nelle proprie capacità espressive l'espressione delle emozioni specevoli può portare ad una diminuzione dei sintomi somatici favorendo un maggiore benessere in linea con questa evidenza la maggior parte dei partecipanti ha percepito l'arteterapia come un'esperienza di crescita personale come mezzo per migliorare la capacità percepita nel potenziale di trattamento personale e come mezzo per sviluppare una maggior consapevolezza rispetto alla comprensione della malattia questa percezione è coerente con la natura profonda dell'arteterapia che beneficia del simbolismo e del rapporto con l'inconscio inoltre il gruppo è stato percepito come luogo di socializzazione che favorisce la capacità di migliorare la gestione delle relazioni sociali superando così lo stigma della malattia e le resistenze per aderire a percorsi di gruppo qui di seguito vediamo alcune delle risposte ottenute dai pazienti la domanda aperta numero 4 come valuta globalmente gli incontri di arteterapia una buona possibilità per potersi esprimere in forme diverse molto utile conoscere ed interagire con altri pazienti ci dice Sara una donna di 65 anni con mieloma multiplo molto interessante durante l'arteterapia rilassamento e buon umore è stato utile esternare emozioni che difficilmente si possono verbalizzare scrive Mara 45 anni con un tumore al seno e ancora espressione dell'intelletto dell'immaginario della creatività dice Francesco 58 anni appena operato per un tumore al pancreas vediamo ora il caso di una donna di 71 anni che chiameremo Marina Marina ha avuto un tumore al seno con recidiva e metastasi ai linfonodi partecipa al programma riabilitativo dopo un intervento chirurgico delle sedute di radio e chemioterapia dall'umore inizialmente deflesso Marina rappresenta al primo incontro il percorso della sua malattia con una metafora visiva al primo albero grigio ne aggiunge un secondo in arancione sullo sfondo disegna delle montagne ed un castello con le sue mura ben fortificate sul lato destro del foglio rimasto inconcluso scrive a suivre lasciando intendere in questo modo che parte del percorso è stato fatto ma che c'è ancora della strada da fare intitola questo suo primo disegno la via durante il secondo incontro rappresenta un nucleo centrale blu da cui fuoriescono dei cunei appuntiti di diversi colori intitola questo disegno domande ed emozioni sempre durante lo stesso incontro rappresenta un grande cuore rosso con delle linee di diversi colori di tipo ondulatorio intitolandolo scambio con l'esterno e lascio andare inizialmente piuttosto ritirata rispetto al gruppo inizia ora ad aprirsi e a scambiare anche con gli altri partecipanti durante il momento di parola al terzo incontro Marina motivata ora a proseguire il suo percorso realizza una spirale verde con un movimento centrifugo che si apre poi su altre forme dinamiche dal cromatismo vivace intitola questo disegno dal contenuto fortemente catartico fuochi d'artificio ed infine con il quinto disegno celebra la sua rinascita attraverso la rappresentazione di un albero collocato sul lato destro del foglio ove nel primo disegno c'era un vuoto molto più rigoglioso e colorato rispetto a quelli del disegno iniziale integrando così in maniera dinamica e trasformativa anche gli aspetti dei disegni precedenti al termine degli incontri Marina si dichiara molto soddisfatta del percorso svolto ed appare più fiduciosa rispetto alle sue risorse nel portare avanti il proprio percorso di cura tengo a ringraziare Marina per la sua grande disponibilità ed anche tutti gli altri partecipanti per la loro collaborazione e per averci dato l'autorizzazione a mostrare queste immagini considerate normalmente oggetti clinici e quindi protetti dallo sguardo altrui passo ora a presentare alcuni limiti legati a questa ricerca che possiamo individuare in due fattori principali il primo legato ad una scelta etica è dato dal bias che potrebbe intervenire dovuto alla partecipazione volontaria del paziente dal programma di arteterapia rispetto alla scelta di un campione randomizzato il secondo fattore risiede invece nel fatto che la valutazione degli indici di efficacia è stata fatta retrospettivamente questo perché non era previsto e il progetto si è prolungato inizialmente era previsto la durata di un anno e poi visto l'esito positivo incoraggiante è stato raddoppiato sarebbe quindi interessante proseguire la ricerca sul potenziale di questa nuova disciplina con ulteriori progetti ad hoc i risultati del progetto pilota mostrano che l'arteterapia ha un impatto significativo nel progetto di riabilitazione multidisciplinare per le due popolazioni analizzate il paziente oncologico e il paziente con dolore cronico in questo senso il gruppo rappresenta un formato terapeutico innovativo che permette di ospitare pazienti con condizioni cliniche diverse fornendo modi alternativi di elaborare le informazioni un ospedale che integra l'intervento di arteterapia nei reparti riabilitativi può aiutare pazienti con diversi profili clinici diverse caratteristiche personali e necessità implementando così uno strumento clinico aspecifico flessibile economico ed efficiente in perfetta sintonia con i tempi per concludere visti i risultati positivi e incoraggianti in questo progetto pilota possiamo solo auspicarci che l'arteterapia possa entrar presto a far parte strutturalmente dei progetti di cura e riabilitazione anche sul nostro territorio vi ringrazio per l'attenzione e l'ascolto auspichiamo veramente ed è questo salto di scala che entrino queste pratiche nei protocolli al di là del singolo progetto epifanico che si esaurisce lasciando letteratura tracce esperienze potenti ma entrino proprio nei protocolli di cura io ancora mi complimento con tutto con la commissione con Rita Pedrinis Roberta Pedrinis con Paolo Paolo Antoni con Patrizia Nalba per i vincitori che rappresentano ovviamente i propri gruppi nel caso di Paolo Paolo Antoni di questa prima grande call però nel contempo apro la seconda fase è quella delle menzioni speciali ed invito il scusate non funzionava il e invito il prossimo relatore Rita Pezzati di SUPSI benvenuta che rappresenta un gruppo di ricerca che ha molte attività in corso e e danni in questa direzione quindi non solo un singolo progetto ma un progetto che si nutre in continuità di percorsi di ricerca che sta prodando ad uno step successivo però lascio a lei la narrazione anche la presentazione del gruppo multidisciplinare di cui fa parte grazie complimenti grazie mille grazie come scusa non ho precisato ed è un grave errore perché le menzioni perché i progetti sono in corso non si sono ancora completati e allora queste due segnalazioni che abbiamo ritenuto fondamentale presentare fanno parte di questa visione grazie grazie mille grazie di aver accolto questo progetto grazie a IPSA e alla città di Lugano per permettermi sono veramente grata di condividere ma soprattutto grazie per avermi permesso di incontrare altre persone che dentro i nostri mondi veloci rischiavo di non incontrare e quindi sono veramente felicissima di questo come si diceva faccio parte di un gruppo più grande la squadra abbiamo un gruppo di supporto per il progetto che presento adesso il dottor Brenno Galli che è un geriatra che ci ha dato preziosissimi consigli su gli esercizi che poi vedrete nel video cosa fare e non fare qualcuno ce l'ha cassato per cui abbiamo dovuto ripensare quindi demi squadre responsabile della ricerca dell'Accademia Dimitri Crizia Bonaudo ricercatrice Katia Tunisi che tiene con me il gruppo ti incontro non online Larissa Vangenals che era la nostra regista e ci ha dato anche preziosissimi consigli l'associazione Alzheimer Ticino che è sempre presente nella mia storia da ex fondatrice dell'associazione Alzheimer ad oggi sono passati tantissimi anni ma si continua a lavorare bene insieme e alla fondazione che ci ha permesso di svolgere di iniziare questo progetto prima di tutto chi concerne cos'è Ticino ti incontro online si rivolge a un gruppo di persone che vivono l'esperienza dell'Alzheimer persone che come hanno descritto benissimo che mi ha preceduto hanno un'esperienza di vita particolare nasce dall'esperienza di un gruppo precedente di persona ti incontro dell'associazione Alzheimer propone ti incontro online sessioni online attraverso dei video basati su attività di stimolazione emotiva corporea sono otto incontri che noi proponiamo con delle gradualità con delle musiche e tutta una serie di tempi che poi andremo a vedere a chi è rivolto? è rivolto alla persona stessa e al suo familiare curante o caregiver perché faccio la distinzione perché i familiari curanti sono evidentemente legati alla famiglia spesso possiamo basarci anche su delle badanti su degli amici dei parenti che vivono una relazione vicina e devo dire scusate se lo dico subito ma friggevo mentre ascoltavo l'idea di poter svolgere per esempio in un museo dei momenti di incontro come questi dei luoghi stabiliti dove le persone possono arrivare e trovare un'accoglienza mi è sembrato un'apertura meravigliosa la quale non avevo mai pensato è un'esperienza attiva di leggerezza e divertimento e propone incontri per un dialogo fra specialisti perché? perché ogni due incontri noi proponiamo alle persone che a casa con i nostri video vanno a provare gli esercizi con il proprio caro affetto da demenza offriamo uno spazio di comprensione di quello che accade c'è una novità sì per noi c'è perché c'è questo amalgama un po' nuovo per la mia storia di ricercatrice di linguaggi che integra delle potenzialità comunicative espressive del teatro con uno sguardo che si basa sulle conoscenze scientifiche della ricerca sulle demenze ma offre una precisione uno spazio come quello che ho sentito dai colleghi che mi hanno preceduto quindi una metodologia che arricchisce proprio l'accessibilità l'allergerezza di questo linguaggio teatrale nella sua profondità con queste con le sue forme pedagogiche molto precise poi vi dirò a chi fa riferimento Dante Carbini che purtroppo è genone qua con l'attenzione degli strumenti psicoterapici non si fa assolutamente psicoterapia ma gli strumenti ci servono per leggere a quale scopo? beh diversamente dai miei colleghi è nato proprio durante il lockdown a partire dati incontro appunto che vi mostro fra poco ci siamo resi conto che c'era veramente bisogno di qualcosa di diverso e ci siamo inventati qualche cosa che potesse fornire un'assistenza a distanza quindi questa prassi innovativa con l'ausilio del teatro con delle tecniche teatro inteso come attitudine teatrale con delle tecniche di respirazione movimento dolce per queste persone proprio perché durante la pandemia il calo cognitivo delle persone che vivevano a domicilio è stato devastante anche nelle istituzioni ma a domicilio in modo particolare il progetto si basa su concetti di salute eogenesi come abbiamo sentito ieri al quale evidentemente aderiamo e sull'importanza delle terapie non farmacologiche che sto studiando da qualche anno oramai da parecchi anni e che sono fondamentali futuro beh adesso aggiungerei oltre a presentarsi come modello da divulgare sul territorio possibilmente gratuitamente la giornata del matto di alzheimer ho fatto un collegamento con l'auxologico di milano e accennavo a questa potenzialità che stava nascendo nel canton ticino con l'online e sono arrivate tantissime richieste dicendo fateci avere i video evidentemente bisogna portare a termine il progetto pilota ma poi sarebbe molto bello e affiancare altri gruppi in presenza o come dicevamo come stavo dicendo anche qua le terapie non farmacologiche beh come dice il nome che è bruttissimo ma non se ne è trovato ancora un altro sono quelle terapie che offrono benessere qualità di vita le persone non attraverso qualche strumento chimico ma vanno a basarsi su questa cosa che vi scrivo in blu che rimane integra e forte anche nelle situazioni più avanzate di malattia la spinta emotiva affettiva la relazione che parla attraverso il corpo il gesto lo sguardo e le tonalità anche se non sono parole quindi lavoriamo con la persona con demenza non con il suo cervello malato ci implichiamo con le sue emozioni e con la sua capacità di comprensione non con i suoi deficit di memoria con la persona nel contesto della sua storia di vita familiare ma non solo anche nel contesto più ampio della società e dei suoi valori perché le persone affette dalla demenza continuano a essere cittadini a piena parte quindi diciamo che lavoriamo con degli esseri sociali che hanno un bagaglio di conoscenze e un patrimonio di esperienza ricordiamoci che la malattia di Alzheimer come le altre malattie dementigene hanno una radice biologica una radice culturale ma anche di tipo esistenziale e quando come dicono loro arriva la tragedia non la diagnosi cambia la vita non solo del paziente ma di tutto il suo entourage e quindi tanto più deve essere valorizzato ed è proprio per questo che cinque anni fa con l'associazione Alzheimer è nato il gruppo T'Incontro da cui poi nasce T'Incontro Online con incontri quindicinali per sostenersi e aiutarsi a dare senso che durante il lockdown è stato interrotto e noi abbiamo mantenuto dei contatti telefonici con le persone ma non bastavano e quindi con l'attore con Dante abbiamo provato a immaginarci cosa dicono le persone durante questi incontri ci parlano di fatica la fatica fisica del lavoro perché avere una mente che non sa più dove sei con chi sei cosa stai facendo cosa farai che cosa stavi facendo dove stai andando chi sta arrivando verso di te è una fatica è una fatica anche da pensare oppure simpaticamente qualcuno diceva quando la moglie e il figlio continuano a dirti cosa devi fare è una grande fatica è una fatica però è anche paura qualcuno quel giorno è un giorno recentemente l'ultimo incontro che ho fatto con loro è un incubo è l'incubo di non riuscire è l'incubo dove ti sembra che non ci sia una via d'uscita ma poi dopo aver guardato questo abbiamo ripreso i temi che sempre caratterizzano tutti i nostri incontri che sono della durata di un'ora e mezza e l'anno scorso avevamo nove persone e il lockdown ci ha portato a quattro abbiamo perso cinque persone per il calo cognitivo non riuscivano più ad affrontare una frase intera ed è per questo che online diventa ancora più importante o perlomeno la parte artistica cosa ci dicono ci dicono chi sei stato chi sei anche se non hai più quello che avevi ci dicono ci appartiene il mio passato sono sempre io quello che ho vissuto in precedenza ci dice che è difficile non pianificare il futuro ma avere una gran voglia di viverlo ci siamo sia con gli aspetti gradevoli che sgradevoli e stare insieme ci aiuta a lasciare andare ci porta ancora a scoprire proprio come ci raccontavano i colleghi prima tante sono le sfaccettature non possiamo star nascosti in una stanza chiusa questo ce lo dicono ogni volta è importante rilassarsi riconoscersi nei limiti nelle difficoltà ed essere quello che siamo ognuno è prezioso e ogni volta facciamo delle gran risate perché devo dire che sono dei gruppi simpaticissimi perché c'è un bisogno di sdramatizzare ci diciamo delle robe terribili come avete visto assolutamente non banali e poi c'è sempre questo momento di risata questo momento di star bene dove ci dicono beh c'è di peggio si può poter vivere anche se le cose non vanno come mi aspettavo adesso all'ultimo momento ho deciso di mettere il filmato così vedete che cosa facciamo per poi descrivervelo oh perché non va voilà sono solo tre minuti stiamo portando una novità visto che non possiamo trovarci regolarmente come abbiamo fatto in questi anni ogni 15 giorni abbiamo pensato di trovarci in un modo diverso e di attivare le stesse cose belle che succedono fra di noi dentro una serie di giochi che vi proporremo una serie di giochi teatrali che adesso con la persona che vedete accanto a me vi proporremo quello che faremo saranno degli esercizi e dei giochi teatrali e di movimento che ci permetteranno di incontrarci incontrare lo spazio interiore a noi stessi e incontrare l'altro la persona che ci affianca in questo momento saranno giochi molto semplici delicati e divertenti questa è la direzione la leggerezza ci interesserà molto sapere come siete stati per migliorare sempre di più la possibilità di fare questo lavoro dello star bene che è quello che ci accomuna vi chiediamo di essere il più liberi possibili dal giudizio su di sé quindi se qualcosa ci fa un po' strano dirlo come lo diciamo sappiamo che viene accolto viene accolto per dare senso come sempre quindi grazie anche per questa caratteristica che ha contraddistinto il lavoro della nostra squadra fino a qua il vostro aiuto sarà la forza in più che noi avremo per far sì che questo progetto sia sempre più dedicato e sempre più puntuale nell'incontrare le esigenze di persone come noi come voi che hanno intenzione di incontrarsi e incontrare l'altro in tutti i cambiamenti della vita incontrando questo attore incontrando l'arte teatrale il mio linguaggio è un po' duro un po' rigido da ricercatrice sta sperimentando delle nuove forme di poesia che ho sentito raccontate dagli altri sono una principiante ma ci provo la pedagogia teatrale a cui si fa riferimento è la pedagogia di Lecoq che è questa pedagogia che guarda le tensioni di nuovo c'era una risonanza con quanto veniva detto precedentemente e come avete visto vi abbiamo dato un piccolo spunto di esercizi sono tre esercizi per ogni sessione che dura al massimo mezz'ora costruiti in un crescendo fino ad arrivare alla parte quella che noi tecnicamente chiamiamo l'insalata di parole quando le persone non riescono più ad esprimere un concetto ma la loro tonazione la loro espressione il loro corpo ci racconta quello che non racconta più il resto quindi questo è il quadro concettuale allora il quadro concettuale invece per quel che riguarda il resto perché è stata una lunga ricerca come quella di tutti il disturbo neurocognitivo come si usa a dire adesso o le demenze beh qui c'è Richard Cheston che è un grande ricercatore sulla demenza che ha vinto dei premi meravigliosi ha fatto a Londra un sacco di cose bellissime con le demenze ci dice che cosa è la demenza è la perdita di capacità di competenze riguarda non lo ripeto è già stato detto prima la cosa che non è stata detta è che per dar diagnosi di demenza bisogna che ci sia una differenza significativa fra quello che la persona fa adesso e quello che faceva prima nella sua capacità di linguaggio di prassie di ignosie quindi di riconoscimento e questo è una grande sofferenza il secondo quadro concettuale riguarda la storia che sta dietro alla demenza abbiamo alcuni grandi personaggi sono stati fatti dei cambiamenti ma non tantissimi anni fa è verso la fine degli anni 90 che Tom Kidwood un grandissimo pioniere ha spostato il focus di tutta la ricerca che c'era sulla demenza dalla malattia alla persona e questo ha cambiato la vita ha scritto questo libro purtroppo l'anno dopo è morto non ha potuto continuare il suo grande processo c'è Louis Plotin che nella parte francese allo stesso modo ci dice le persone hanno i disturbi psicocomportamentali che sono aggressione wonder in questo camminare affinalistico l'apatia l'irritabilità tutte queste cose che noi chiamiamo disturbi neurocognitivi e lui ci dice hanno un significato in ogni storia hanno un significato e noi abbiamo bisogno di capirli per entrare in contatto con le persone e da ultimo Beremisen un collega psicologo belga olandese scusatemi che ci dice una cosa che sembra brutta ma invece ci chiarisce molto a me ha chiarito aperto un sacco di orizzonti ci dice che secondo una teoria più ampia che è quella di John Bowlby la teoria dell'attaccamento noi esseri umani veniamo al mondo con la capacità di chiedere vicinanza e protezione nella demenza quando purtroppo l'erosione fa sentire continuamente insicuri e in una situazione di minaccia Beremisen ci dice l'esperienza della demenza è un trauma un trauma continuo continuamente la persona è sottopesta tutta la giornata dei traumi perché continuamente non riesce a ritirare il filo e che cosa facciamo noi umani dalla culla alla tomba come diceva Bowlby abbiamo bisogno la vicinanza di un altro essere umano esattamente come è stato presentato anche negli altri progetti la vicinanza di un altro essere umano che mi dia sicurezza e questa sicurezza noi la partiamo da qui quadro concettuale le neuroscienze le neuroscienze ci dicono una cosa meravigliosa noi esseri umani sappiamo abbiamo un cervello che è abitata dalla mente il cervello è una struttura con tutto quanto è stato accennato prima la mente è pensiero e cognizione e la mente è legata alla storia individuale ma noi abbiamo bisogno degli altri per continuare a essere umani e sempre più umani un'altra cosa che ci dice le neuroscienze ci dice che noi siamo chi siamo in particolare perché abbiamo questa meravigliosa parte frontotemporale che ci permette di essere unici e irripetibili siamo noi quelli lì nella demenza viene rosa vengono attivate maggiormente tutte le parti fino al tronco encefalico che sono quelli dell'allerta la persona affetta da demenza è continuamente in una situazione di allerta e che cosa ha bisogno come ci dice Porges che ha fatto la teoria polivagale gli esseri umani sono sintonizzati in modo stupacente sui cambiamenti emotivi delle persone attorno a loro le persone affette da demenza sono i grandi esperti delle emozioni e delle relazioni senza più la capacità di leggerle quindi non sono più in grado di questa esperienza di sé consapevole perché il prodotto della regolazione tra cervello emotivo e razionale non ha più un buon esito quindi la parte top down non funziona più che quella che ho sempre fatto io come psicoterapeuta adesso andiamo alla bottom up il respiro il movimento il contatto che insieme al cervello dell'altro che mi aiuta a recuperare i pezzi che non sono più in grado di far da solo mi permette di recuperare me stesso per un attimo certo ma sempre bene la valutazione la saltiamo perché è in corso la valutazione utilizziamo il caregiver baden che è un grande strumento classico e dei focus proprio perché vogliamo andare a prendere anche delle parti un piccolo accenno al futuro a gennaio nelle case anziane già passato dal comitato etico partirà questa ricerca integrazione apprendimento corpo e emozioni in sinergia sempre SUPSI sempre GINCO gruppo invecchiamento consapevole e andremo a misurare come quale sia la formazione migliore per gli operatori che lavorano con le persone affette da demenza c'è uno studio precedente su cui ci basiamo qui ci sarà il corpo e misureremo l'ossitocina per avere un dato fisiologico che ci permetta di capire quanto davvero anche a livello fisiologico vanno a cambiare gli aspetti di senso grazie mille scusate mi sono portata questa libellula perché mi dice ma come faccio a far capire che cosa ha cambiato nella mia modalità di essere una professionista al teatro questo essere in equilibrio e in leggerezza grazie congratulazioni un grande progetto longitudinale anche in questo caso molte partnership anche in questo caso chiari obiettivi e dei sostenitori per dare respiro ma abbiamo ancora un'ultima progettualità prima di eventuali quesiti e chiamo a noi la dottoressa patrizia berger non la vedo eccola eccola allora grazie benvenuto sono accompagnata perché in mezzo a tanti come si dice dottori professori come familiari fondamentale fondamentale essere accompagnata e vogliamo presentare il suo accompagnatore allora Ettore Correggioli collaboro con Asi per l'aspetto musicale particolare per la musicoterapia e ho partecipato a questo progetto che è ancora in corso ben volentieri e stiamo raccogliendo poi i primi risultati ma spiegherà bene Patrizia assolutamente benvenuta e tocchiamo e tocchiamo un altro tema che implica il coinvolgimento delle famiglie di tutta la società i disturbi dello spettro autistico e li guardiamo negli occhi come realtà attraverso la mediazione delle arti puntando all'inclusione ma sapendo che una famiglia che ha questa sorpresa della vita deve ovviamente imparare a vivere una nuova dimensione che durerà per tutta la propria esistenza il nostro intervento si è focalizzato su più giorni abbiamo sentito parlare tanti progetti con anziani il nostro così in brutta parola target parte già dai bambini piccoli fino all'età più adulta a voi grazie beh e con una gratitudine e commozione immensa che ringrazio la città e la fondazione per aver dato come dire la possibilità di parlare di questo progetto che è nato proprio dal basso è un progetto nato da noi familiari io ho una figlia di 40 anni quindi con un disturbo dello spettro autistico quindi ho 40 anni di esperienza con questo mondo che come hanno ben descritto gli specialisti si avvicina un po' quello dell'Alzheimer cioè il mondo della neurodiversità delle percezioni distorte un mondo che richiede a noi familiari di dare un senso di dare un senso a quello che è una fatica giornaliera stare vicino alla persona che ti è più cara e non la capisci non riesci a entrare in questo mondo con tutta la tecnica e tutti i progressi che sono stati fatti rimane un mistero allora che cosa è questo superare questo senso di isolamento di impotenza che il familiare vive io l'ho intuito e questi due giorni mi hanno dato una gioia immensa vedere che ora ci sono delle evidenze scientifiche che confermano quello che come madre è sempre stata un'intuizione cioè l'arte la danza la musica dava sollievo ci dava una possibilità di incontro quell'incontro che la mente il dialogo la parola che per esempio mia figlia è mancata fino a 5 anni e adesso c'è ma è altalenante non ci permette quindi adesso spiego brevemente quindi come è nato questo progetto cioè noi da tempo lavoriamo come associazione siamo associazioni di tempo libero quindi promuoviamo momenti di tempo libero e da sempre io ho fatto ricorso all'arte quindi a tutte le forme la musica la danza poi durante il periodo della pandemia tutte queste persone che noi incontravamo siamo familiari ma ci occupiamo come fondazione oltre noi oltre noi cioè ci occupiamo molto anche di orfani di persone di figli che erano figli dei nostri amici e che ora non ci sono più come familiari come genitori e noi andiamo a portare alla domenica nelle vacanze con noi infatti noi facciamo quello che si chiamano vacanze famiglie accompagnate quindi delle famiglie che prendono insieme dei ragazzi che non hanno più la famiglia o che vivono in istituto per motivi vari durante la pandemia quindi questi ragazzi che vivono in istituto ma anche noi familiari che ci incontravamo settimanalmente con i gruppi di autoaiuto ci siamo trovati isolati noi abbiamo fatto 3-4 mesi in casa quindi sola con una figlia con difficoltà di comunicazione con il rischio veramente di andare in burnout e di essere noi stessi chiusi allora è nata questa idea di incontrarci online tutte le domeniche domenica pomeriggio ci incontravamo grazie al nostro noi abbiamo un maestro di canto musica che ha una capacità empatica sorprendente e poi abbiamo altre persone come Ettore che ci accompagnano e quindi cosa facevamo ci trovavamo online e cantavamo e ricordavamo i momenti belli trascorsi insieme e attraverso un padre che è insegnante adesso lui è in pensione ma lui ha insegnato sempre ha una grande dimestichia con la musica e con la storia ci faceva vedere delle bellissime immagini e abbiamo deciso di trattare il barocco perché il barocco è pieno di emozionalità allora vedevamo dei musei delle cioè andavamo facciamo un viaggio virtuale in questi luoghi e ricordavamo i momenti belli trascorsi insieme e tenevamo vivo soprattutto il desiderio di ripotere rifare queste esperienze poi abbiamo incontrato ecco questa è una storia di incontri perché quando si vive la condizione di una famiglia che vive appunto la condizione dell'autismo diventa io dico una famiglia autistica lei stessa perché deve selezionare le sue scelte le sue amicizie il tempo da dedicare e quindi ci sono degli incontri che sono fondamentali per la vita di una famiglia che vive questo e per esempio uno è stato con Mirqua che è una signora del quartiere dove noi viviamo che è appassionata di teatro lei lavora in banca però dice io facevo teatro da giovane è sempre stata la mia passione perché non facciamo un teatro di quartiere quindi finita la pandemia abbiamo ricevuto la possibilità di avere la sala teatro di Breganzona e quindi abbiamo cominciato a fare la domenica il teatro un teatro per dire che cosa allora le persone soprattutto Asperger quindi con un alto funzionamento dicono a noi non piace scimmiotare le parti degli altri noi vogliamo parlare di noi non prendere in prestito e va bene cosa raccontiamo raccontiamo di noi allora chiaramente come i genitori con un'altra mamma abbiamo detto ma adesso ci ci tocca anche parlare di noi già soffriamo di questa cosa per cui adesso la mettiamo anche in scena invece è stato un esercizio e i professionisti che hanno parlato prima di me ne hanno conferma la narrazione cioè poter ricordare certe cose anche molto dolorose abbiamo scoperto che ci faceva paradossalmente bene bene perché insieme al raccontare facevamo anche tanto ridere cantavamo avevamo persone come Ettore che non lo vivono e ci dicevano costantemente il nostro motto è la canzone a cuna matata quindi cerca di lasciare via i pensieri e quindi queste persone ci aiutavano e quindi è nata l'idea di un teatro che portasse i sette colori cioè perché sette i colori dell'arcobaleno e delle emozioni e abbiamo così in vacanza coniato un'idea spesso non si sa cosa parlare con queste persone allora è nata questa idea ma di che colore ti sei svegliato stamattina e di che colore è adesso la tua giornata dopo che siamo stati insieme e abbiamo cantato ed ecco qui che è nata questa idea quindi del aiutarsi stando insieme che è il motto di Asi e del parlare dei colori che cambiano anche nell'arco di una giornata e ci ha ispirato molto la natura perché un'altra delle mie convinzioni è il benessere che ci viene dallo stare alla luce alla natura quindi noi andiamo spesso nei boschi e cantiamo nel bosco quindi ascoltiamo i suoni della natura e li integramo con le nostre canzoni quindi abbiamo ecco abbiamo creato questo progetto questo è il logo del progetto che ha disegnato noi ci appoggiamo come associazione alla fondazione Diamante al laboratorio laser per tutto l'aspetto grafico e lì ci lavorano delle persone con appunto diagnosi di Asperger e hanno cognato questa immagine che è l'arcobaleno ma i cuori perché noi non siamo professionisti ma ci mettiamo il cuore in quello che facciamo l'emozione e quindi di grande ispirazione sono state come dicevo le passeggiate chiederci questo di che colore sei e poi Elvis un ragazzo Asperger molto acuto e divertentissimo che poi vedremo nelle foto in un breve filmato ha detto ma mettiamoci anche il bianco perché il bianco contiene tutti i colori tutte le emozioni e quindi è diventato un po' un arcobaleno speciale quindi abbiamo lavorato su questo concetto gli attori le maglie tutto è stato fatto in casa possiamo andare avanti che così ecco qui vediamo il discorso si sono unite a noi altre associazioni e questo è la ricchezza e anche persone che credono abbiamo per esempio il trio di Ottoni Val San Giacomo il padre è il direttore dell'istituto scolastico di Lugano che ha la passione della musica con i suoi figli e per esempio ci accompagna poi abbiamo appunto la fondazione San Gottardo dove hanno diversi utenti ospiti che vengono con noi sempre la domenica o nelle vacanze e quindi è nata questa compagnia teatrale trasversale mi viene da dire è molto variegata dove non abbiamo solo persone con disturbo dello spettro autistico ma abbiamo chiunque voglia la gente del quartiere la gente che vuole incontrarsi possiamo andare avanti quindi ecco qui ci sono alcune testimonianze magari lascio dire a Ettore le testimonianze perché purtroppo molte persone non hanno potuto venire oggi allora lui dà un po' voce a diciamo chi ha lavorato con noi e poi volevamo farvi vedere un breve filmato ma quindi magari se vuoi dire sì le testimonianze sono fatte da più parti ci saranno testimonianze dei ragazzi che li vedremo alla fine ci sarà testimonianza di un genitore curante le testimonianze mia di René e Alex siamo tre operatori che fanno il teatro e poi c'è anche un altro aiutante che è uscito appunto a fare il teatro che è un vegliatore notturno che io ho sempre pensato che il vegliatore notturno fosse una guardia ma in realtà è una persona con un cuore un cuore d'oro è una persona che esprime tante emozioni non solo noi ma anche ai ragazzi di cui deve badare abbiamo la testimonianza la prima testimonianza io ho preso una frase di Aldous Oxley dopo il silenzio ciò che è meglio descrivere inesprimibile è la musica nulla di più ero e silenzio e mancanza di espressione si riscontrano anche con persone con disturbo dell'aspetto autristico eppure quando con la tua attività musicale ti avvicini all'altro che ti sta accanto riesci a prenderlo per mano e guidarlo ecco allora che il silenzio lascia spazio alle parole al canto e inesprimibile in emozioni che tutto dicono e tutto esprimono tutto ciò lo viviamo anche nel teatro di quartiere poi c'è la testimonianza di René che lui è attore e regista si occupa prevalentemente dell'aspetto teatrale vero e proprio direi che una delle componenti fondamentali del teatro di quartiere sorprendentemente ricca è il lavoro di gruppo intendendo il teatro come uno sforzo collaborativo che verrà sempre arricchito da ogni singolo componente il quale apporterà il proprio e personale contributo ne nasceranno dei luoghi dei linguaggi dei luoghi sorti ad essere condivisi sia all'interno del gruppo teatrale che con gli spettatori vuole gestire prima questo poi le guardate io e adesso in anteprima è un progetto in divenire la prima scena che più o meno l'abbiamo completata come dicevo c'è un intervento appunto è il mio la mia sensazione e poi del vegliatore notturno allora dice i tuoi pianti inconsolabili da bambina impaurita i tuoi silenzi alternati a monologhi le grida improvvise quando il mondo diventa così per te minaccioso sono come per fitte devastanti per me soprattutto la notte quando il buio e il silenzio li amplificano quando non c'è nessuno vicino in quei momenti cerco disperatamente un modo per avvicinarmi a volte in punte di piedi altre urlando la mia disperazione il bisogno più grande che ho sempre sentito è quello di una presenza una presenza silenziosa perché alla sofferenza dell'anima non ci sono risposte qualcuno che mi accompagna ad esplorare questo tuo mondo misterioso misterioso come il cielo ma stupendo al tempo stesso come quando illuminato dalla luna e dalle stelle proprio qua come quando i tuoi occhi si illuminano e sul volto a volte così cupo compare un sorriso è un dono inestimabile adesso testimonianza di Andrea quando i suoni i rumori e le voci del giorno si smorsano sul confine tra luce e tenebre io arrivo per accompagnarti nel tuo viaggio notturno per vegliare il tuo riposo sono la tua sentinella fedele che non ti lascerà mai solo fino al mattino le mie notti insonni sono ciò che ti offro ciò su cui puoi sempre contare ci sono pensieri che sbocciano solo di notte come il fiore di gelzomino a volte non resta altro che questo sacro tempo prima che il loro profumo svanisca ma non temere il tuo sentire i tuoi pensieri non andranno persi ne avrò cura io per te e quando il tuo sonno è turbato e in sogni oscuri si è imprigionato io sono le parole che ti si fanno vicine nel silenzio a volte opprimente della notte le senti? è la preghiera della sentinella che riscuote dal sonno mortale riaprendoti gli occhi alle tenue luce di una stella piccolo faro di speranza una notte non riuscivi a dormire mi chiedesti cos'erano quelle parole che avevi dentro che sentii soprattutto di notte e ti soffocavano ma poi di giorno svanivano eri innamorato e non lo sapevi ti dissi che era poesia e mi domandasti da dove veniva e fu così che ci inventammo insieme una storia Andrea Vegliatore notturno quello che è commovente che Andrea che io ho conosciuto per caso perché lavora nell'istituto dove c'è il centro di uno di mia figlia aveva fatto un'intervista sulla rivista dell'istituto io lo chiamai per dire ecco io sapere che c'è un vegliatore così posso finalmente dormire la notte ecco e da lì è nata un'amicizia incredibile dove addirittura mia figlia con Andrea si scrivono e lui riesce a leggere quel linguaggio che io come madre non riesco a leggere e questo ne è un esempio cioè spesso noi siamo troppo dentro con le emozioni e quindi abbiamo bisogno proprio di uno sguardo altro che arriva e ci è appunto ci dà quel conforto di cui dicevo c'è il bisogno e adesso vi farei vedere dura pochissimo un paio di minuti come dire un'anteprima di questo lavoro teatrale che parte proprio dalla canzone che a me è sempre stata carissima che dice la notte che ho visto le stelle e dice proprio di questo desiderio di infinito che noi abbiamo e che se lo teniamo vivo probabilmente ecco ci permette di non soffocare dentro questa situazione che può essere veramente come dire devastante ma che proprio ha anche questo infinito dentro quindi non so se riesce a partire ecco il video questo va da solo abbiamo avuto dei problemi con il video la notte che ho visto le stelle non volevo più dormire volevo salire là in alto per vedere e per capire una batata sembra quasi poesia ma una batata tutta un renesia senza pensieri la tua vita la tua vita sarà ti vorrà vivrà in libertà una batata una batata una batata una batata senza pensieri senza pensieri senza pensieri la tua vita la tua vita chi vorrà vivrà in libertà ma una batata ma una batata ma una batata senza senza pensieri senza pensieri la tua vita la tua vita ti vorrà vivrà in libertà una batata una batata una batata un bel sorriso una batata allora con questo bel sorriso assolutamente stupendo allora chiamiamo qui con noi tutti i vincitori i progetti vincitori con la menzione Patrizia Nalbach di Scintilla Paolo Paolantonio Roberta Pedrinis Arteterapia nella riabilitazione Rita Pezzati e poi Silvia Misiti Luigi Di Corato allora tutti qui per una foto di questo momento straordinario senza mascherina un attimo ok ok perdono no assolutamente benissimo rimaniamo un attimo qui Silvia Luigi se rimaniamo un attimo qui per eventuali quesiti ai nostri partecipanti anche se adesso abbiamo appena fatto un'attività performativa quasi quasi in conclusione ma ci rendiamo disponibili per eventuali quesiti sì io vorrei farne uno al pubblico quanti di voi conoscevano tutti questi progetti bene allora abbiamo già ottenuto un risultato li abbiamo conosciuti noi si sono fatti conoscere da voi e non solo perché adesso ci sarà un movimento sul sito e su tutte le altre fonti quindi questo è già un primo tema importante soprattutto parlando di persone che hanno un analogo target alle quali ci rivolgiamo ci rivolgiamo a persone anziane con demenza persone con patologie croniche neurodegenerative e avremo molto da dirci già questa mi permetto di dire è una rete e ci può essere veramente già un'osmosi e può crescere con i nostri partecipanti che ci hanno seguito il sabato pomeriggio io avrei una domanda così icebreaking uno di voi che dica la difficoltà abbiamo parlato delle epifanie sono progetti che ci hanno che ci stanno cambiando la vita la postura sociale il modo con cui guardiamo alla nostra professione ci relazioniamo con gli altri stiamo portando avanti ricerca ma qual è la grande difficoltà non solo a far accadere le cose a far sì che tutto questo entri entri nelle strutture e divenga veramente una una prasse un accompagnamento dei percorsi terapici un un aiuto ai medici ai carer ma strutturale e non soltanto appunto un'epifaniera come dicevamo chi chi vuole parlare per tutti io dico solo questa cosa dico solo questo credo che oggi sia un primo passo importante perché è parlarne rendere conosciuto condivisibile perché tutto questo diminuisce l'incertezza la paura e apre alla voglia di incontrare qualcosa di diverso da sé quindi grazie mille psicologia positiva oggi io avrei ancora qualcosa da aggiungere oltre alla difficoltà di far conoscere questi progetti e la solitudine c'è la solitudine iniziale la grande fatica organizzativa e fisica mentale non solamente il dispendio di energie perché si mira un obiettivo ma poi si ha a che fare con persone l'avete detto e l'hanno detto in molti che assorbono energia per cui noi lì siamo al 120% e diamo perché poi noi assorbiamo diamo ma assorbiamo anche molto per cui è una fatica psichica è una fatica emotiva è una fatica anche psicologica tutto è tutto però il fatto di essere qui e di essere uniti io auspico veramente che si possa concretizzare questa rete non sempre parole che continuiamo a dire e questo primo forum che possa essere veramente questo perché uniti solamente uniti noi ce la facciamo e quindi anche il fatto di condividere questa fatica e di dire non ce la faccio proprio più ma chi me lo fa fare eppure lo si fa penso che sia per tutti così e questo è però c'è la volontà e quindi come dopo un parto c'è la fatica il dolore ma poi chissà perché si dimentica gli uomini magari lo vivono a cotè questo parto ma in questo senso quindi è una fatica che però poi dopo paga e si dimentica forse abbiamo capito in questi due giorni che non è più la belleità di qualche visionario ma che il contesto è veramente abilitante direttore direttrice grazie a tutti penso che una parte degli obiettivi siano stati raggiunti e devo dire che questo periodo di difficoltà planetaria ha un grande merito quello di aver abbattuto penso quasi definitivamente quel superomismo che ci stava condizionando in negativo ha acceso il riflettore sulle nostre fragilità ha dimostrato che sono fragilità sempre più condivise ci permette di far emergere la necessità di condividere la nostra fragilità pensando anche che fragilità particolari non siano così solitari e atipiche quindi il percorso che abbiamo intrapreso del quale siamo convinti sono stato veramente soddisfatto e felice delle parole del vice sindaco di questa mattina che credo che abbiate notato è proprio che si può fare una politica culturale diversa e che l'inclusività non è solo uno slogan che non significa spendere di più che non significa sostanzialmente cambiare in maniera radicale i nostri percorsi significa però avere il coraggio di interagire in una maniera differente pensando che la cultura se non ha impatto sociale probabilmente non è vera non è del tutto cultura diciamo è cultura d'eccellenza è cultura di ricerca ma siccome tutti i cittadini sono uguali di fronte al fisco sono tutti proprietari delle coalizioni pubbliche sono tutti finanziatori attraverso il premio fiscale della cultura e della cosa pubblica e sono tutti proprietari di quello che è pubblico è fondamentale per noi cominciare a riflettere pensando che l'effetto di quello che facciamo deve essere evidentemente a disposizione di tutti quindi il nostro non è uno sforzo di buonismo ma è finalmente ridare un senso di equità all'attività culturale cercando di interagire di intercettare tutti quegli aspetti che possono favorire la qualità della vita e quindi in ultima istanza il benessere credo che sia un po' questo il percorso che stiamo abbastanza faticosamente cercando di intraprendere ma le reazioni che abbiamo finora sono talmente positive e di apertura che contiamo crediamo che possa portare a qualche effetto positivo anche nel medio lungo termine che è il nostro obiettivo reale perché il nostro obiettivo non è quello così avere un momento estemporaneo che ci faccia dire anche questa è fatta ma siamo anche consapevoli e anche forse un po' spaventati ma siamo consapevoli del fatto che quello che ci proponiamo è un percorso è un percorso lungo è una politica appunto è una politica di sviluppo alla quale crediamo e che riteniamo non possa che essere intrapresa con consapevolezza anche delle difficoltà che potranno intercorrere nel viaggio grazie dopo il dottore di Corato e dopo tutte queste cose che abbiamo sentito questo pomeriggio non credo che posso aggiungere qualcosa di più profondo ma vorrei raccontare la mia testimonianza intanto questi due giorni sono stata molto bene non lo so voi ma sono stati davvero belli la mia testimonianza non vuole essere un esempio ma proprio una testimonianza io sono un ex ricercatore mi sono sempre occupata di ricerca scientifica e da quando ho la responsabilità della fondazione IPSA abbiamo sempre sostenuto delle istituzioni culturali sia per interesse sia per interesse in senso interessi personali per delle persone che lavorano nella fondazione sia per filantropia e l'incontro con il primo incontro oggi si è parlato di persone che poi sono un po' fanno un passaggio di testimone in questo caso non è un passaggio di testimone ma sono degli incontri speciali che cambiano un po' alle cose sicuramente sicuramente l'incontro con Luigi di Corato mi ha poi permesso di conoscere Caterina Seia il professor Enzo Grossi e questo è una subito una rete che si è formata e da quel pragmatismo un po' a cui ero abituata di ricerca scientifica ho visto che forse può essere anche diciamo già la ricerca scientifica è ovviamente molto utile ma siamo riusciti un po' a dare un senso anche a quello che facciamo come fondazione IPSA tornando un po' al pragmatismo sono abituata poi a vedere delle difficoltà le difficoltà che abbiamo sentito in questi giorni sono sempre state la difficoltà di fare rete lo hanno detto loro più volte lo abbiamo sentito ieri dagli architetti dai progetti negli ospedali lo scetticismo che c'è quando si parla ancora di questa realtà e poi la sostenibilità quindi il bisogno di sostenere questi progetti altrimenti come diceva Caterina rimangono degli episodi fantastici meravigliosi che ci fanno commuovere ma che poi non quindi come fondazione IPSA ci impegneremo a sostenere a spingere soprattutto sulla base delle nostre competenze quindi la parte scientifica sicuramente a fare in modo che il mondo della cultura possa trovare più facilmente il rigore scientifico per poi raggiungere qualcosa di realmente efficace come ci è stato dimostrato questa mattina adesso ho un desiderio di ringraziare le persone che hanno lavorato con me in questo periodo perché se lo meritano sono Sara Comodo Jacopo Crespi e Irene Belatti che hanno fatto di tutto questo forum l'abbiamo organizzato in casa non ci siamo fatti tanto aiutare come altre volte e quindi veramente un grande merito Savanna Kessel che non lavora con me ma come se e tutti coloro che ci aiutano di solito per le riprese la squadra di Andrea i fotografi catering e tutti quanti ovviamente non posso che non ringraziare la città di Lugano anche io ringrazio tutti ringrazio anche io la mia collaboratrice Savanna Kessel invece è mia ma ringrazio anche Aglaia Harriz e tutta la Kedu che lei che lei ovviamente interpreta in questo momento perché si stanno avvicinando ad un percorso che hanno già intrapreso e al quale stiamo cercando di dare ulteriore impulso e ulteriore energia e sono convinto che l'effetto palla di neve prima o poi ci sarà e c'è già insomma la vostra presenza a quest'ora fino a quest'ora qui lo dimostra nei fatti la merenda oltre alla merenda volevamo dirvi che che stiamo provando a ed è difficile dirlo con una sudafricana che sembra che arrivi all'orizzonte però stiamo provando a costituire un fondo per finanziare progetti di ricerca che si pone un obiettivo di sostegno almeno triennale fondazione IPS ha già fatto il primo passo abbiamo avuto un sostegno anche da farmindustria ticino stiamo raccruppando altri sostegni quindi l'obiettivo è quello di cercare risorse risorse ovviamente economiche che poi finanzieranno altre call to action in questo caso abbiamo fatto una call for case studies per comprendere un po' meglio le realtà già presenti sul territorio e che siamo felici di essere riusciti a rappresentare almeno in parte ma in maniera davvero esemplare per poter sostenere attività nello specifico lo dico con cautela perché appunto le condizioni sanitarie sono difficili sappiamo che non è facile in questo momento entrare in qualsiasi struttura e soprattutto se ci saranno altre restrizioni all'orizzonte lo sarà ancora per un po' però abbiamo fiducia speriamo e siamo fiduciosi che questa situazione non sarà per sempre e quindi stiamo cercando di costituire questa opportunità anche concreta per poter dar seguito a cose che ci auguriamo possono durare nel tempo l'altra cosa che stiamo facendo è un'attività di lobbying stiamo incontrando i direttori degli ospedali stiamo incontrando i responsabili delle strutture stiamo incontrando i decisori politici in maniera quasi chirurgica e sistematica quindi andiamo sul sistematico e poi nel sistematico andiamo a delle carotetture piuttosto precise per cominciare a creare una sensibilità maggiore su questi contenuti devo dirvi che è un po' buffo perché Silvia e io anche settimana prossima avremo altri due appuntamenti molto importanti direi cruciali quando andiamo da qualcuno senza chiedere dei soldi o senza chiedere qualcosa in cambio di solito si stupisce un po' si allarma perché dice ma scusate non mi chiedono soldi vengono qui a parlarmi di cultura e salute non mi chiedono opportunità ma alla fine dei nostri incontri vediamo che le persone poi capiscono che non si tratta più di una questione di soldi o di opportunità ma riguarda tutti noi riguarda il benessere collettivo riguarda anche uno strano modo di fare cultura di una città come Lugano che sta cercando evidentemente di uscire da uno sguardo più orientato alla punta dei piedi sta cercando di alzare la testa per individuare nuovi orizzonti e lo fa con dei partner d'eccezione come Fondazione Ipsa che ha creduto al punto a questo progetto da farlo diventare un'attività ormai centrale della sua azione quotidiana io devo ringraziare davvero di cuore Silvia Misiti che è stata catapultata in questa avventura non è l'unica cosa che devo fare ormai non mi sopporta più non mi risponde più neanche al telefono fra un po' e tutto il suo team perché veramente senza di lei anch'io non avrei avuto l'energia sufficiente per andare avanti nei miei ringraziamenti voglio veramente ringraziare di cuore Caterina Caterina Seia che da diversi anni mi ispira con le sue visioni e poi voglio fare un ringraziamento particolare Denzo Grossi che chiedo di raggiungerci per cortesia perché con quello che ha scritto con quello che fa con la ricerca scientifica che dimostra e adesso anche con questo magnifico corso alla nuova facoltà di scienze miomediche dell'Usi sta creando un humus assolutamente straordinario che penso possa nutrire nuove visioni nuove opportunità vi dico solo che in cinque lezioni sono passate quasi 600 persone il lunedì alle 18 come molti di voi che lo frequentano bene sanno quindi questo vuol dire che nonostante nonostante le difficoltà della vita quotidiana molti trovano uno spazio per affacciarsi a questo tema e per interagire con noi ed è un primo passo verso qualche cosa che nei sogni potrebbe essere un centro di competenze su queste materie grazie ancora buona merenda grazie e buona serata a tutti voi la merenda è lì arrivederci un caro bravo